Ben trovati, ben trovati, una nuova mattinata assieme a Sveglia Trieste, come sempre la segna stampa, gli ospiti, collegamenti con la polizia locale, avremo modo anche di sentire le parole dell'allenatore della Triestina Clotet, protagonista peraltro di un momento molto particolare con l'attaccante Crollis ieri espulso nella gara della Triestina con la Gianna Arminio, gara purtroppo persa a Rocco per 0-1 da parte dell'Unione, la cui situazione si fa sempre più difficile. Andiamo però intanto a vedere la prima pagina del quotidiano il piccolo, subito sotto la testata, Amsterdam caccia ai tifosi israeliani, da Biden a Meloni, no all'antisemitismo, a Grusti un'Unione Europea più forte per rispondere a Trump e agli Stati Uniti. Settimana corta per 3 mila, le novità per gli statali in regione, aumento retributivo medio di 165 Euro al mese e smart working non più 5 ma 4 giorni lavorativi a parità di stipendio, i dipendenti pubblici sono pronti a sperimentare la settimana corta, se non è una rivoluzione poco ci manca, anche se CGL e Win non hanno firmato il contratto delle funzioni centrali applicato ai dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti economici. Stiamo parlando di circa 195 mila persone a livello nazionale e di circa 3 mila in Friuli, Venezia e Giulia. La sperimentazione è prevista dal contratto triennale 2022-2024. Un contributo sulle spese per i dipendenti pendolari, dipendenti della regione potranno in alcuni casi beneficiare di un sussidio sull'abbonamento del trasporto pubblico. Sciopero dei trasporti, in regione ne abbiamo parlato ieri, cancellato il 90% delle corse. mobilità, non solo l'elettrico, vantaggi anche con l'idrogeno, l'approfondimento del quotidiano il piccolo. Poi di spalla, sull'antica diga, via i sondaggi in vista del recupero, ieri Telequattro ha fornito un ampio reportage del sopralluogo sull'antica diga di Trieste che protegge il Portovecchio, una firma in mezzo alle macerie, l'antica diga si deve accontontare di questo primo gesto che consentirà di saggiarne le condizioni subacque e di stilare una stima indicativa dei danni subiti dal 2016, anno in cui è stata chiusa definitivamente al pubblico. Sempre di spalla, Foiba di Basovizza si amplia il sito, firmato l'accordo, poste nelle vie Marconi e Pasteur chiuse per lavori. Poi il grande evento, un clima da Gran Gala al Verdi per la Traviata, un'immagine della serata di ieri al Teatro Verdi di Trieste, tutto esaurito per la prima al Teatro Lirico. Arrocco finisce 0-1, l'unione sconfitta anche dalla Gianna Arminio, ne parleremo appunto, gara condizionata dall'espulsione di Crollis, CR Trieste svelata dagli ex bancari. Statali, settimana corta per 3 mila, sono i dipendenti che potranno lavorare 4 giorni con il nuovo contratto, Montalbano, CISL si va verso una gestione del personale che odimizza i costi e dà maggior valore al lavoro agile, l'assessore Roberti per quelli del comparto unico, il tema non è ancora presente ma la trattativa è lunga, CGL e Will non hanno sottoscritto l'intesa e troppo poco per proporre un terzo dell'inflazione subita dai lavoratori. Contributi sulle spese per il trasporto pubblico ai dipendenti pendolari, la novità nelle linee di indirizzo varate dalla Giunta Friuli Venezia Giulia per lavoratori dell'ente, non l'unica, si va dalle spese mediche ai mutui in vista dell'estensione ai comuni, dipendenti della Regione a lavoro in comuni diversi da quelli di residenza o dal domicilio abituale potranno beneficiare di un sussidio sull'abbonamento al trasporto pubblico e la principale novità inserita nella proposta della Giunta al Comitato di Gestione del Fondo Sociale dei Lavoratori dell'ente, di fatto una modifica alle linee di indirizzo dell'aprile 2022 mirata a ampliare il perimetro del welfare di Palazzo. Tifosi israeliani, una notte di terrore, vittime di un agguato ad Amsterdam dopo la partita di Europa League tra i padroni di casa dell'Ajax e il Maccabi. L'Olanda è sotto shock nella notte dopo la partita di Europa League tra il Maccabi Tel Aviv e l'Ajax, Amsterdam si è trasformata in un teatro di violenza in cui i ragazzi sugli scooter hanno dato la caccia ai tifosi israeliani attaccandoli con bastoni e coltelli. Abbiamo fallito nei confronti della comunità ebraica nella Seconda Guerra Mondiale, abbiamo un fallito nuovamente, dice Re Guglielmo Alessandro, Re dei Paesi Bassi. I grandi del mondo in coro, antisemitismo dilagante, Meloni una cosa inaccettabile, Macron ora buia della storia, von der Leyen, combattiamo in Europa qualsiasi forma di odio. Ultra che si dicono apolitici, ma c'è una frange estremista e da 30 anni l'UEFA ha messo le squadre dello Stato ebraico alle varie competizioni europee, negli stadi con la stella di David, la violenza sempre più frequente, dentro lo stadio della capitale olandese non c'erano stati scontri né avvisaglie violente. Lo shock delle vittime è imboscata contro di noi, i sostenitori ospiti accusano, ci hanno aggredito sia con mazze che con le lame, i pro palestine invece ribattono con sicurezza, sono stati loro a provocarci, un'altra situazione veramente difficile collegata a quello che accade ovviamente poi in Medio Oriente. Draghi sferza l'Unione Europea con il Trump bis e cambia scenario, serve la svolta, l'ex premier italiano sollecita i 27 alle decisioni ritenute necessarie. La Commissione prepara le proposte sulla competitività, l'Italia frena ancora sulle sollecitazioni ad aumentare le spese per la difesa. Scholz senza maggioranza apre sulla data delle elezioni, crisi politica in Germania, la CDU vuole votare il 19 gennaio, ma il cancelliere in carica chiede di garantire l'approvazione della legge di bilancio prima di sciogliere il Bundestag. Stoccate tra melone e shrine, il governo difende chi lavora, la premier sferza l'opposizione, no in prima linea sui diritti, più della sinistra al caviale, la segretaria democratica diciamo no alle purghe con l'olio di ricino. Zelensky chiama il tycoon, partecipa anche Musk, dopo la vittoria di The Donald volano i titoli di Tesla che vale più di 1000 miliardi, l'uomo più ricco del mondo ha assicurato che sosterrà Kiev con i suoi satelliti, l'FBI ha sventato un complotto iraniano per uccidere Donald Trump. Le uccisioni insensate finiranno presto, il tempo per gli speculatori guerra fondai è scaduto a scriverlo sulla sua piattaforma Elon Musk che ha partecipato anche alla telefonata di congratulazioni di Zelensky a Trump per la sua vittoria alle presidenziali americani. Cresce l'influenza del proprietario del social X, basta con i guerra fondai, una situazione che vedremo poi che determinazioni darà sul campo, sul campo anche vero e proprio di battaglia tra Russia e Ucraina con Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti. Movimento 5 Stelle, cambio di nome e simbolo, via limite dei due mandati, revisione dello statuto al vaglio l'eliminazione della figura del garante Beppe Grillo, resi noti i contenuti del confronto online tra gli iscritti, la denominazione non più rappresentativa delle attuali caratteristiche del Movimento. Il Movimento 5 Stelle si è espresto a cambiare, a dire al passato, a cambiare nome e questo è quello che auspicano i 360 attivisti sorteggiati per avanzare delle proposte in vista dell'Assemblea del 24 e 25 novembre a Roma. Dal K.O. una lezione per i progressisti, siamo sempre sulle conseguenze del voto negli Stati Uniti, meno principi più economia reale. La vittoria di Trump mette i democratici di fronte e la necessità di cambiare agenda e priorità, non basta più insistere forse natamente su quella politica dell'identità che divide la società. Questi i sostenitori di Trump che festeggiano la vittoria elettorale del tycoon. Il suo secondo mandato sarà diverso e più forte, poco interesse per l'Unione Europea, la parla il professor Varsori dell'Università di Padova. Il problema rimane la Cina. Serve un'Europa più forte per rispondere a Trump? L'invito al governo di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Altadriatico, a giocare un ruolo nel ristabilire una relazione potente tra Bruxelles e Washington. Con Regione e Camere di Commercio lavoriamo un piano a dieci anni per aiutare le nostre imprese a trasformarsi, superando la propria incapacità di agire da Europa. Trent'anni fa ho fatto parte dell'Assemblea dipartamentale della Nato, già a quell'epoca si parlava di mettere a punto il sistema europeo di difesa e non si è mai fatto nulla. È il momento di agire, condividere le forze, stabilire chi fa cosa, superare un sistema in cui abbiamo 15 tipi diversi di carri armati, creare un sistema difensivo capace di intervenire a prescindere da quello che fanno gli Stati Uniti. Chi crede nella democrazia è giustamente terrorizzato dall'idea di abbandonare l'Ucraina e di conseguenza non possiamo permettere che un paese come l'Ungheria possa bloccare gli aiuti dell'intera Europa così a lungo. Un codice etico per difendere la sanità dell'intelligenza artificiale, il Presidente della Fondazione Cini porterà molti benefici, ma l'Europa deve conservare i dati dei cittadini per non restare indietro nelle cure. Gli algoritmi, la localizzazione dei server dove si conservano i dati è cruciale per non farsi superare. Le risorse umane, oltre alla formazione, ancora riformare la ripartizione dei ruoli negli ospedali. Più fondi ai comuni nella manovra, altri 20 milioni per la viabilità, la legge di stabilità da 6 miliardi approvata dalla Giunta Fedriga, FUG Strade progetterà 12 interventi. Prendere via il 9 dicembre in Consiglio regionale la discussione sulla manovra, il cui testo ottenuto ieri via libera della Giunta guidata dal Presidente Massimiliano Fedriga. Il documento di programmazione economica vale nel suo complesso 6 miliardi 241 milioni. Tra i provvedimenti approvati ieri dall'esecutivo ha anche uno stanziamento da 20 milioni per il miglioramento della viabilità regionale. Il bilancio approderà in Consiglio regionale il prossimo 9 dicembre. Sciopero dei retrasporti, andiamo a vedere quello che è successo nel servizio realizzato ieri dal nostro Gianluca Paladin. Sentiamo appunto proprio dal nostro telegiornale il report della giornata di sciopero degli autobus. Cancellato a Trieste il 90% delle corse del trasporto pubblico locale, lo stesso dato in tutto il Friuli Venezia Giulia. È stata un'adesione quasi totale quella allo sciopero nazionale di 24 ore, indetto dai sindacati Filt, CGL, FIT Cisle, Uiltrasporti, Faisa Cisal e UGL FNA. Tra le rivendicazioni il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2023, la riforma del settore e la sicurezza sul lavoro. Allo sciopero ha aderito il personale tecnico, amministrativo e viaggiante, un venerdì nero per chi, per lavoro o altri motivi, avrebbe dovuto spostarsi con il trasporto pubblico. Disagi registrati in tutta la regione, soprattutto nelle ore di punta, come anche per l'uscita da scuola degli studenti. E se Trieste ha toccato il picco del 90%, Gorizia registra un 100% di adesione per quanto riguarda le corse urbane, il 75% per il servizio extraurbano. Anche dal deposito di arriva a Udine, spiegano i sindacati, non è uscito quasi nessun autobus per un'adesione del 99%, praticamente sono stati garantiti solo i servizi minimi. Massima adesione dello sciopero anche a Pordenone, regolare invece il traffico sulla rete ferroviaria, i dipendenti del settore non hanno aderito alla protesta. Allora, la CGL, privato accreditato, controlli e criteri più rigidi, più carezza nel ruolo del privato accreditato in un sistema sanitario che è e deve restare pubblico, criteri più stringenti e più verifiche sulla qualità delle strutture e delle prestazioni erogate, quanto chiede la CGL del Friuli Venezia Giulia in vista dell'imminente ridefinizione dell'accordo triennale tra il servizio sanitario regionale e il privato convenzionato, i rapporti di Agenas, spiega il segretario generale Michele Piga, hanno evidenziato diverse criticità nell'erogazione dei servizi da parte delle aziende sanitarie convenzionate che riguardano in particolare, ma non soltanto, la qualità delle attività di chirurgia generale ed oncologica per la parte ospedaliera, il livello di obsolescenza delle apparecchiature di diagnostica radiologica per la parte ambulatoriale. Tirso, la Regione conferma, la trattativa va avanti, la crisi dell'impianto, il dialogo sotto traccia con il gigante del FUD Roncadin, l'assessore Rosolen, massima priorità alla difesa dei 175 posti di lavoro, la preoccupazione per il rischio di una procedura concorsuale. Si conclude in modo interlocutorio il tavolo per la crisi Tirso, convocato dalla Regione, su richiesta dei sindacati. Le sigle pressano le istituzioni per avere ragionamenti in merito alle trattative in corso per un possibile passaggio di proprietà dell'impianto tessile, dove la produzione è stata definitivamente fermata per le difficoltà dell'azienda a saldare i debiti con i creditori. In ballo c'è il futuro di 175 lavoratori, sarebbe da dire soprattutto lavoratrici, che potrebbero trovare la piena collocazione qualora andasse in porto la trattativa aperta dal gigante delle pizze surgelate Roncadin, che sta valutando di rilevare il sito per allargare il proprio business. Il confronto è lontano dall'essere concluso, scrive Diego D'Amelio sul quotidiano Il Piccolo. La riunione di ieri può chiudersi soltanto con l'impegno della Regione a fare il possibile per dare soluzione a una crisi che di effatto sia aperta soltanto un mese fa. La preoccupazione per il rischio di una procedura concorsuale comunque c'è. Più immatricolazioni in Friuli-Verenzia-Giulia, ma meno 15% per le auto vendute. Sina di Confcommercio, tanti mezzi intestati alle stesse aziende produttrici o alle concessionarie. Ecco un po' la situazione globale. 228 le immatricolazioni a ottobre 2024 a Gorizia, 620 a Pordenone, 408 a Trieste, 908 a Udine per un totale di 2.164, più 3,49% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Mobilità, non c'è solo l'elettrico, vantaggi dell'utilizzo del idrogeno, dice Luigi Crema, presidente della Idrogen Europe Research, uno dei tre enti, parte della partnership che gestisce 2 miliardi di investimenti. La molecola potrebbe tamponare la crisi nel settore del automotive. Pagine dedicate a Istria, Quarnero e Dalmazia. Legge di stabilità, 18 milioni di Euro in tre anni per esuli e comunità italiane. Già confermato il rifinanziamento per il triennio 2025-2027, il presidente dell'Unione italiana Tremul, dal governo grande attenzione. Quest'anno non occorrerà un emendamento apposito per portare all'attenzione del Parlamento le richieste degli esuli della Comunità Nazionale Italiana di Istria e Dalmazia. Il governo appunto già finanziato con 6 milioni le attività. Ex questore di Fiume in Cella, travolto e ucciso un uomo, uno dei nuovi incidenti, era al volante della sua auto quando ha colpito in piedi un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Osiec nel rione di Val Scurigne a Fiume. Dopo l'investimento è fuggito in autostrada, ma è stato fermato poi dalle forze dell'ordine. Si tratta di Mirko Ruzic, 70 anni, ex questore di Fiume. Ospedale dedicato a Micheletti, da Pola la richiesta al Ministero, l'eroe della strage di Vergarola. Sospetto di rifiuti tossici a bordo, cargo bloccato in Porto a Durazzo dal Moliva, potranno essere scaricati i container per le verifiche, una storia che si trascina da luglio. L'inchiesta della magistratura albanese, scrive Stefano Giantin, il giro d'affari enorme, a volte qualcosa va storto, grazie all'attivismo di esperti e ambientalisti, permettendo così di far luce su un business spesso oscuro, oltre che pericolosissimo business, quello del trasferimento di rifiuti industriali, non raramente noccivi e tossici dall'Occidente verso l'Estremo Oriente, che è diventato tema caldissimo in Albania, per colpa di un caso che infiamma l'unpilione pubblica da mesi, è quello del cargo Moliva, battente bandiera turca, fermo a Durazzo. Tutti colpevoli dai 4 ai 7 anni per i 6 ragazzi accusati a Palermo, lo stupro di gruppo su una 19enne, la violenza avvenne nel luglio 2023, in un cantiere isolato, le pene inflitte sono minori rispetto a quelle richieste. Arriviamo alle pagine economiche con Fincantieri che costruirà per Crystal la terza nave da crociera di lusso, la compagnia ANK Travel di Manfredi Lefebvre ha esercitato l'opzione, il valore dell'accordo definito grande tra 500 milioni e 1 miliardo di Euro, Fincantieri quindi continua nella sua produzione di navi di alto livello croceristico internazionale. Auto a Marocchi raddoppia la presenza in Germania, sede a D'Amburgo, quindi questo binomio logistica e shipping che si allarga in fase europea. Allora, volevo far vedere ai nostri telespettatori in serie se possibile i servizi relativi alla situazione migranti, ovvero i primi tre servizi del nostro telegiornale di ieri, il caseggiato occupato in Portovecchio, quello visto a mare, una novità di cui abbiamo fornito le immagini, le parole dei triestini e poi il dibattito sulla questione dei migranti in Portovecchio, sulla richiesta del sindaco, l'appello a piante e dosi a portarli via da Trieste. Sentiamo in serie i tre servizi. Cucine, zona pasti e lavaggio delle stoviglie nel magazzino 1A affacciato sul mare in Portovecchio. Non sono solo due le aree occupate dai profughi nell'antico scalo asburgico destinato a diventare porto vivo, ma ben tre. Cioè la tettoia dell'ingresso monumentale dove abbiamo documentato l'accampamento e il magazzino 2A adiacente, dove a quanto pare soggiornano, per così dire, i boss della zona. Ma i migranti hanno di fatto preso in mano anche il semi di roccato magazzino 1A affacciato sul mare nel bacino fra il molo quarto e il terzo. Un fabbricato fatiscente dove alcune porzioni di tetto nei settori vicini sono già crollate. In quegli spazi si cucina accendendo fuochi e braceri di fortuna. Le immagini sono emblematiche, con un evidente rischio di incendi e pericolosità personale. Si allestiscono i pranzi di gruppo all'aperto per poi lavare le stoviglie direttamente in mare. Si tratta della zona più nascosta e per così dire intima della vita delle centinaia di migranti che arrivano a Trieste. Il tutto però appare organizzato, quasi diretto da qualcuno che ha deciso dove vada cosa e chi. Ovviamente la questura ha l'evidenza della situazione e stando a quanto filtra da ambienti istituzionali, nei prossimi giorni potrebbe scattare un'azione volta non solo allo sgombero, ma anche a far chiarezza su una serie di situazioni sospette. È stato identificato dalle volanti della polizia il giovane d'origine medio orientale che ieri mattina ha minacciato la nostra troupe in Portovecchio. L'uomo potrebbe rappresentare uno dei capi area che gestiscono, ancora non è chiaro in che modo e con quali introiti, la presenza dei migranti dietro all'ingresso monumentale di Largo Santos. Poco dopo la chiamata in questura, le volanti erano arrivate tempestivamente sul posto, mentre l'uomo, con ogni probabilità, si è disfatto del coltello con cui armeggiava nelle tasche alla vista degli agenti. Intanto sulla questione dell'accampamento dei profughi nella zona poco distante dalla stazione di Trieste, questi i pareri dei triestini ormai avvezzi al tema dai tempi del Silos. Sempre più migranti in Portovecchio, il sindaco dice portatemeli via, cosa ne pensa? Non so, penso che è un vero problema sociale, bisogna occuparsene. Nessuno lo dice, però ormai gli emigranti hanno stancato un po' tutti. Questa è la mia opinione personale, non voglio spartire niente. Però se siamo ipocriti diciamo che vanno bene, che ci fanno la pensione, diciamo tutte queste cose. Per me non è... queste sono fantasie di partito. Se trovano una soluzione migliore è giusto, altrimenti ci pensino. Perché sono arroganti, non sono grazie che avete colto qui in casa, niente. E' così, è così. E dobbiamo subire anche le violazioni di questa gente. Portiamoli via, portiamoli via se possiamo, magari decorosamente, ma cerchiamo di portarli via. Perché bisognassi, non so, portarli via, però metterli in qualche parte, insomma, non lasciarli così in abbandono, giusto? Non è piaccio, certo. È piaccio. I emigranti vanno accolti, introdotti e noi abbiamo, soprattutto nella nostra regione, dei programmi sia scolastici che di altro tipo. Prima dell'eliminazione dello SPRA, ok? L'accoglienza diffusa, quindi non è questo il modo. Piante Dose, accoglierà questo appello, questa richiesta? È l'unico modo? Cioè trasferirli da qua, trasferirli dal Friuli Anzia Giulia, altrove? Cosa dice? Intanto la solidarietà al collega per l'episodio odierno e anche i complimenti per la professionalità e il servizio. Trieste è la porta della rotta orientale di un flusso di immigrazione illegale e, a paragonato a Lampedusa, che è un'altra delle porte dell'immigrazione, richiede pertanto un intervento anche da parte del Ministro dell'Interno sulla città e penso in qualche modo ci sarà. Perché le immagini girate dalla vostra troupe, che merita anche la nostra solidarietà, cioè siano impietose e fotografino una situazione che mette a nudo diciamo il tradimento della promessa del centrodestra che governa la città di Trieste da otto anni e mezzo, la regione Friuli Anzia Giulia da sei anni e mezzo e a Roma da due anni ha tradito la promessa di bloccare l'immigrazione clandestina. È inaccettabile che a Trieste vi sia una densità di immigrati così alta, vi è un disequilibrio e quindi vanno ricollocati. Dopodiché il Consiglio di Conficoni, certo, raccolgo il tema, il tema va spostato in Europa, va ricollocato in un ampio scacchiere che non è solo il tergestino o della regione Friuli Anzia Giulia, ma si devono mettere in campo tutte le azioni possibili. Ma per quanto riguarda, ritorniamo però sulle immagini, chiaramente questo non è più accettabile e quindi vanno presi i provvedimenti molto seri. Bene, allora proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Crisi senza fine, l'industria assegna una flessione del 4%, è il ventesimo calo. La discesa non si arresta a settembre, anzi si accentua, non va meglio per i competitori europei come la Germania. La produzione industriale, la vedete, ha pacchiature elettriche non in testa con il più 5 e 9. La cosa che va peggio è proprio l'automotive, l'industria tessile, abbigliamento, pelli e accessori. Proprio per vedere il top e il flop, diciamo così, di settore. L'Italia accelera sul fotovoltaico, più pannelli solari, ma prodotti nell'Unione Europea. Il sottosegretario Massimo Bitonci, il governo al convegno Assim di Trieste, avanza il piano di transizione 5.0 per la riconversione energetica. Vedete un po' le percentuali, diciamo così, delle vari tipi di energia per quanto riguarda il 2023, produzione energetica in Italia per fonte, il petrolio greggio al 6,8%, biocarburanti e rifiuti al 35,8%, eolico al 30%, idroelettrico al 10,5%, petrolio greggio al 16,8% come produzione energetica per fonte, per percentuali di fonte in Italia. Aziende italiane che prima producevano in Estremo Oriente hanno fatto reshoring, vedremo se la transizione energetica riuscirà a stare al passo. Gli impianti vanno installati sui teti delle nostre aziende, scrive Stefano Zuban, che fa parte del direttivo dell'associazione. Andiamo ancora avanti per arrivare alla prima pagina della cronaca triestina, con le indagini sull'antica diga, l'accordo siglato tra le macerie, la scogliera franata e le cabine pericolanti dopo 8 anni di abbandono. Si parte dall'analisi subacquea. Tra un istante vedremo anche il servizio, ma prima sentiamo in collegamento gli amici della Polizia Locale dalla sala operativa per le disposizioni del weekend su traffico, viabilità e quant'altro. Buongiorno a Fabrizio Morello. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. Allora intanto iniziamo con qualche intervento di questa notte, dove siamo intervenuti per rilevare un paio di incidenti stradali, fortunatamente non gravi, poi la nottata è passata abbastanza tranquilla. Per quanto riguarda la viabilità mattutina, vediamo dalle varie telecamere cittadine che è molto calma e tranquilla. Per oggi vi ricordo che a Servola ci sarà una manifestazione aspettando San Martino con la chiusura di via di Servola da via dei Giardini a via Soncini, dalle ore 13 alle ore 21 con divieto di transito e sosta. Poi vi ricordo che dal giorno 11 alle 6 del mattino fino alle 20 del 13 si starà chiuso lo svincolo autostradale a 4 in direzione Venezia, la rampa di Sistiana in direzione Sistiana. Poi la città avrà diverse manifestazioni in questi due giorni, ma tutte non andranno a influire sulla viabilità, essendo così tutte in aree pedonali. Questo è tutto, vi rivelerò la linea. Benissimo, allora torniamo a parlare di quei 100 metri che separano la diga dai magazzini di Portovecchio, anche perché si è parlato anche di questo, si è parlato anche dell'aspetto di un possibile ponte in futuro di collegamento della diga a Portovivo. Allora andiamo a vedere il servizio e poi dopo andiamo direttamente in pubblicità. In attuale si stanno chiedendo in che stato si trova l'antica diga di Trieste e attraverso la firma del protocollo che sigleranno oggi l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimaro e il commissario dell'autorità portuale Vittorio Torbianelli saranno stanziati 200 mila euro per le prime ispezioni, una prima diagnosi per capire lo stato manutentivo dell'antica diga. Il futuro della diga di Trieste passa poi all'analisi del suo stato di salute. Il periodo di abbandono sommato a libecciate e mareggiate hanno inevitabilmente scalfito quella che è stata per anni sede di stabilimenti balneari, di un locale da ballo e di società sportive. Con la firma al protocollo d'intesa fra regione e autorità portuale, siglato proprio sull'antica diga, è stato dato avvio al primo stanziamento di fondi, 200 mila euro, per la progettazione di indagini strutturali del sito. Solo dopo sarà possibile chiarire le potenzialità future dell'area. Prima di partire con la definizione vediamo qual è lo stato dell'arte, quant'è malata questa diga. Ci dicono che sotto sono delle cavità profonde, quindi in caso di forti mareggiate come quelle dell'anno scorso è a forte rischio di tenuta la diga, quindi non solo per l'autorità portuale, ma anche per quello che sarà lo sviluppo di Porto Vivo, Porto Vecchio, come veniva chiamato, e anche della nuova regione che qui sorgerà nel Porto Vecchio di Trieste. Resta di fondo un problema che ha caratterizzato la diga e le gestioni che si sono interessate del posto, la logistica. Gli trasferimenti via mare hanno sempre rappresentato un rallentamento nello sviluppo delle attività, ecco perché l'assessore Scocci Marro non esclude soluzioni audaci. Più che nuova si può ripercorrere quello che era il progetto ambizioso delle spot trieste del 2008, quando vent'anni fa corremmo ai noi, non vincemmo, lì si ipotizzava buona parte del Porto Vecchio di qualificarlo e anche la diga e unirla con un ponte. È un progetto visionario, ma non è impossibile e anche dal punto di vista economico sarebbe anche percorribile, però dal punto di vista marittimo potrebbero essere dei problemi e fare un ponte mobile sarebbe ancora più problematico. In alternativa, in maniera più semplice, è quella di collegare la diga con quelle che sono il molo prospicente, dove ci sono 150 metri, 200 metri di percorrenza, quindi con un battellino veloce in un minuto ci arrivi. Bene, abbiamo visto poco fa il pezzo sull'antica diga, proseguiamo con la cronaca triestina, gli ex della CR Trieste salgono in cattedra, la storia della banca racconta una città, raccolte anche le immagini di personaggi, eventi immobili assieme alla relazione di un percorso iniziato nel 1842. Uso dello sloveno in consiglio, l'opposizione contro Bertoli, la polemica sulla traduzione simultanea, il vicepresidente della circoscrizione della Tepiano Est, Premolin, che chiede la traduzione simultanea in italiano per consentire ai colleghi di lingua slovena di intervenire nella loro madrelingua, l'assessore del bilancio Bertoli, che replica negando tale possibilità, rifacendosi al regolamento e replicando in albanese lingua della sua terra d'origine, e il siparietto al quale hanno assistito i consiglieri rappresentanti delle circoscrizioni per l'illustrazione della variazione 12 al bilancio di previsione del comune di Trieste. Le aule dell'Urban Center per il voto dei senegalesi, la comunità chiamata alle elezioni politiche, sarà con ogni probabilità l'Urban Center di Corso Cavour a ospitare il prossimo 17 novembre, il seggio al quale i cittadini senegalesi residenti a Trieste potranno presentarsi per esprimere le loro preferenze alle elezioni politiche del Senegal. Poi c'è la civica Idea Giuliana che ha ufficializzato i gruppi consigliari nelle circoscrizioni di Trieste. Ieri su Idea Giuliana abbiamo realizzato un servizio e lo vediamo. Quello che sarà importante è avere il rapporto tra le circoscrizioni, i consiglieri con il capogruppo Cason e poi a livello regionale con Carlo Grilli per portare avanti tutte, come dicevo prima, i vari interventi che sono necessari alla collettività. Dopo la costituzione del gruppo consigliare comunale sono stati ufficializzati i gruppi nei consigli circoscrizionali. Parliamo della civica Idea Giuliana che scende in campo anche nei rioni triestini per far da tramite fra cittadini e istituzioni. Sono presenti praticamente su tutto il territorio comunale e in questo momento riusciamo a fare due gruppi sia in quinta che in sesta circoscrizione. Quello che conta per noi è ovviamente evidenziare il ruolo che hanno le circoscrizioni che è quello di prima linea sul territorio dell'amministrazione comunale, quindi il contatto diretto e il rapporto diretto che c'è tra l'amministrazione e i cittadini, quindi portare avanti le istanze, i vari progetti, le idee partendo dal basso, partendo dai nostri rioni, dai nostri quartieri. Noi abbiamo fra i nostri donne e uomini presenti appunto già eletti nelle circoscrizioni, persone che già operano sul territorio. Questo appunto Giorgio Cecco sulle circoscrizioni, sui rappresentanti delle circoscrizioni del nuovo movimento Idea Giuliana. Scontri in via Flavia, tutti scarcerati, ultravaresini con obbligo di firma, ai due triestini d'aspo di 5-2 anni, misura cautelare per i quattro lombardi, le indagini però continuano. Ce lo racconta anche nel servizio di ieri sera al nostro telegiornale Gianluca Paradini. È caccia un quinto ultra della tifoseria di Varese, evidentemente coinvolto negli scontri del Palatrieste e visibile nelle immagini a disposizione della Digos, ma non ancora rintracciato. Proseguono anche, con il massimo riservo, gli accertamenti su almeno un'altra persona residente in Friuli Venezia Giulia, che potrebbe aver partecipato alla regia dell'assalto, ma non agli scontri. Agli inquirenti, infatti, non è passata inosservata la manovra stradale da Triestini-Doc, effettuata dai Varesini dopo l'accompagnamento della polizia in superstrada. Un percorso a ritroso sotto lo stadio e verso Piazzale Valmaura, che era stato evidentemente studiato a tavolino e forse addirittura corretto in corsa. Intanto, nell'udienza davanti al GIP, sono stati convalidati gli arresti, ma revocate le misure dei domiciliari per le sei persone coinvolte. Ai quattro ultradivarese è stato però ha combinato l'obbligo di firma in commissariato di polizia per tre giorni a settimana, più in occasione delle gare di campionato della formazione Varesina. Per i due tifosi triestini, invece, oltre alla cessazione delle misure cautelari, il GIP ha ritenuto che allo stato attuale non sussistono indizi di colpevolezza per i reati di resistenza, lesioni e danneggiamento. Rimane in piedi l'indizio di colpevolezza per il reato di rissa. Questa è la situazione, dunque, per quanto riguarda gli scontri che ci sono stati. L'intenzione era quella di ottenere la completa libertà personale dei miei assistiti, afferma l'Avvocato Adami, nel pezzo di Gian Paolo Sarti, si riferimento ai due triestini che hanno preso il Daspo da rispettivamente due e cinque anni. Poi vedremo come affrontare il processo. Gli atti che ora abbiamo potuto vedere sono solo parziali, quindi qualsiasi linea difensiva e il tipo di rito da scegliere deriferanno da un'analisi più completa del fascicolo. Le indagini comunque continuano per i varesini. C'è l'obbligo di firma tre giorni a settimana e anche in occasione delle partite. Ora vedremo però se le immagini andranno a rilevare nuove responsabilità. Accordo con il poligono di tiro per l'addestramento della polizia, l'incremento delle sessioni per gli agenti armati. Il Comune di Trieste ha stipulato una convenzione con la sezione triestina del tiro a segno nazionale per potenziare la formazione e l'addestramento della polizia locale al poligono di Opicina. Poste italiane, chiude per lavori le sedi di Via Marconi e Pasteur. La società parla di interventi tecnici, assicura la riapertura entro novembre. Gli utenti avranno come alternativa gli uffici di Via Santa Cateverina e Sette Fontane. Tributaristi cercasi, via i nuovi tirocini per la scuola Carli, l'iniziativa della categoria per formare i ragazzi sulle opportunità del mestiere. Foiba di Basovizza, il sito della Foiba si amplia, siglato il nuovo accordo, regolarizzata dopo 11 anni la concessione del terreno di Sant'Antonio in Bosco, si accelera sull'estensione del centro di documentazione con 1 milione e 600 mila euro in arrivo da Roma. I fondi finanzieranno una sala da 160 posti, nel contratto previsto anche un parcheggio, quindi un centro documentale che diventa sempre più al servizio dei visitatori. Oltre 80 mila visitatori nel 2024, più della metà sono studenti, i numeri sono in salita e tornano ai livelli registrati nel pre-pandemia. Vediamo quelle che sono le immagini della prima del Verdi nel foyer, i tanti ovviamente che hanno approfittato della serata, le tante e i tanti che hanno approfittato della serata per tirar fuori l'abito più elegante piuttosto che lo smoking per i signori. Il foyer adornato di imponenti composizioni floreali ispirate a Dior e colorato da paillette e abiti sontuosi, pellicce e coprispalla animalier. Il verde esaurito apre con la traviata, un clima da gran gala come nelle favole, carabinieri in alto riforme, pubblico elegantissimo per un'inaugurazione più sontuosa del solito, il sovrintendente Polo accoglienza al top e una risposta che non si vedeva da tempo, ci danno la carica. Come nelle favole, la serata di gala al Verdi scrive Sala del Sal con la prima di un'opera celeberra come la traviata di Verdi è partita da un tutto esaurito che ha visto il teatro riempirsi in ogni ordine di posti. Tra gli altri aspetti da sottolineare, il servizio molto importante vista la penura di parcheggi, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno a Trieste in diretta con il sovrintendente Polo, arriva il nuovo taxi collettivo che porterà gli spettatori a casa, quindi c'è la possibilità di prenotare questo servizio. Il mio nome è Eddie, musica e ricordo in onore di Eddie Walter Cosina, lo spettacolo e le iniziative nelle scuole dedicata alla gente di Scorta a Borsellido, morto ovviamente in quella che è stata la strage di Via D'Amelio a Palermo. Ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale con un servizio dedicato. Era il 19 luglio del 1992 quando l'agente di polizia muggesano Eddie Walter Max Cosina trovò tragicamente la morte assieme agli altri membri della scorta del giudice Paolo Borsellino in Via D'Amelio a Palermo. Oggi a oltre 30 anni da quel terribile giorno l'orchestra Affiati, città di Muggia, amici della musica APS ha scelto di onorare la sua memoria con uno spettacolo intenso che abbina musica e teatro a Leggio intitolato Il mio nome è Eddie. Presentato oggi alla presenza dell'assessore regionale alla cultura Mario Anzi al sindaco di Muggia Paolo Polidori al presidente dell'orchestra Affiati, città di Muggia amici della musica Andrea Svetez Ferdinando Parlato direttore musicale dello spettacolo assieme a Michela Cembram curatrice dello spettacolo Il debutto è previsto per il 15 novembre alle 20.45 al teatro Verdi di Muggia Un momento drammatico della storia della Repubblica da cui però si è tratta la forza per sconfiggere come mai prima la mafia e questo merito va a persone appunto persone uomini che con le loro caratteristiche con le loro debolezze hanno sorbuto però trovare a un certo punto quella forza quel coraggio coraggio non è non avere paura è vincere la paura per superare le grandi avversità questo esempio è giusto vada ricordato e tramandato anche alle nuove generazioni con questo forte messaggio che la musica è in grado di dare che appunto il coraggio è vincere la paura e che ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna trovare la forza per superare le avversità Bene allora la rotatoria Lanza pronta a fine mese le condizioni meteofavorivoli bruciano i tempi del cantiere spesi 620 mila euro altro mezzo milione per quella ex TELIT siamo a Prosecco vedete in una zona dove insomma c'erano parecchi incidenti anche per la confluenza dall'area proprio di Prosecco in direzione del centro Lanza si è fatta appunto la rotonda che ora sarà pronta entro fine mese come sottolineato torniamo in studio per andare un attimo anche alle pagine sportive pagine sportive che ci portano chiaramente alla Triestina dopo la la partita di ieri sera la nona suonata la titola così il quotidiano il piccolo concilio esposito la Triestina rimasta in dieci per l'espulsione di Crollis subisce un'altra sconfitta la modesta Giana Erminio passa di misura a Rocco la Bardati sempre più ultimi il caso dell'espulsione di Crollis e insomma l'allenatore Clotet che lo ha visibilmente strattonato all'uscita dal campo per fargli capire che così non esiste e non può mettere in difficoltà la squadra in questa maniera che poi in dieci purtroppo ha perso la partita Clotet dice per me una reazione così non è accettabile Crollis non giocherà più allora in attesa poi nel corso dei telegiornali di vedere anche gli elias della partita ci vediamo intanto l'intervista in sala stampa realizzata dal nostro Bernardo Gulotta al Ministro della Triestina chiaramente imbufalito per l'espulsione di Crollis che poi di fatto ha incanalato la partita in direzione degli ospiti cosa è successo oggi abbiamo visto questo per me non deve succedere nel calcio e non parlo la reazione parlo dello che ha successo dell'espulsione Crollis lo che ha fatto questo non può succedere nel calcio lui è qui in prestito rappresenta un'altra società che lo manda qui in prestito e lui fa questo alla Triestina fa questo alla sua società e fa questo al calcio che mi ha venuto in mente è la verità io ho un figlio di 8 anni che ha visto questo oggi io vengo di una cultura dove questo non può succedere un calciatore che fa questo se lo fa in strada lo mette in un galera non è normale non è normale e questo noi non dobbiamo accettarlo di nessuna maniera e per col rispetto a me come allenatore Crollis ha finito la Triestina del tutto basta io che l'ho detto in faccia questo mesmo che ha finito oggi con la Triestina con me come allenatore che questa è una roba che devo valutare anche io la situazione come come lo che mi sto trovando qui che non è normale questo ci ha sorpreso un pro la Gianna un poco perché avevano giocato 5-4-1 col Padova venivano giocando una linea di 4 è vero che hanno partito con il 5-3-2 e all'inizio si è costato un po' affiancarsi sulla partita dopo avevamo andato sui primi momenti un po' in dubbi e penso che la squadra si stava riprendendo e ha iniziato a creare pericolo e già stavamo meglio in difesa fino alla situazione dell'espulsione purtroppo la situazione dell'espulsione per noi è un momento duro perché penso che la squadra si aveva affiancato bene dentro la partita aveva preso la giusta misura dell'avversario e stavamo competendo bene dopo all'andare con uno indietro non posso dire niente dei calciatori penso che hanno dato l'anima hanno corso per riuscire a fare questo pareggio anche qualche situazione soprattutto parla inattiva per andare a segnare se riusciamo a arrivare evidentemente che il dominio è stato totale per l'avversario non posso dire niente purtroppo la squadra ha reagito bene alla situazione l'espulsione ma è molto difficile uscire dalla situazione dove siamo con questi tipi di errori e questi tipi di situazioni in partita noi dobbiamo avere la testa più concentrata penso che la mentalità non è giusta nel senso che noi dobbiamo capire il calcio com'è il calcio se ne si com'è dobbiamo gestire anche i momenti della partita e questo è tutto roba individuale penso che si sta che può avere qualche calciatore che è un po' una scommesa nella lega ma deve avere anche dobbiamo pensare che è una lega molto difficile molto competitiva e penso che a noi ci manca il gestire bene il capire bene la partita il capire bene la situazione qualche volta andiamo a mettersi in rischio senza senza necessità ma l'impegno sia stato penso che la squadra ha lottato fino alla fine penso che abbiamo difeso molto bene tutti i cross e il gol che abbiamo preso potevamo aver fatto un po' di più ma credo che l'errore prima che andiamo a sbagliare a pensare di giocare da dietro in quella situazione della inizia tutta la giocata un altro modo di dire che non siamo capaci di leggere la partita di avere quell'esperienza nel campo per leggere la partita l'esperienza come squadra per leggere la partita e questo è molto difficile di competere in questo momento se lo sto guardando la squadra che noi siamo sopra quando è arrivato qui erano a tre punti sotto oggi erano a un punto se noi oggi facciamo un punto potremmo anche uscire della retrocessione e questo già mi semblava un bel passo avanti adesso torniamo a essere a un punto e l'altro con una partita di meno e dobbiamo mettere la concentrazione su quello solo pensare alla squadra che abbiamo avanti e non buttare via le partite così perché ogni volta è una partita di meno io ho fatto giocare a Valocchia perché penso che quando lui è entrato nella partita precedente contro il Propatia lui ha giocato con molta onestità con molta umilità con molto lavoro e ha cercato sempre di aiutare la squadra e questo è pensato che è giusto premiarlo con giocare è visto atteggiamenti un po' diversi sulle altre e alla fine è scelto quella squadra che aveva un po' che capivano un po' di tutti dovevamo mettere la squadra prima di tutti noi ma che devo dire è sbagliato perché ho fatto giocare il Krolis come non deve aver fatto per come è andato comunque ma penso che con Valocchia non niente da dire nel momento che noi oggi buttiamo via la partita come la buttiamo e noi abbiamo quella capacità di gestirsi vuole dire che la situazione tanti non la capivano io l'ho detto dal primo giorno abbiamo troppe scomese non si conosce la Lega e si deve pensare come dobbiamo andare avanti dopo un dato importante prendiamo gol in ultimi minuti perché questa squadra ancora non è a livello fisico che deve essere una squadra in questo momento e tutto questo se non abbiamo quella esperienza di sapere gestire tutte queste situazioni fanno molto mettere una difficoltà in più per tutti noi può essere può essere due opzioni ancora non ho pensato bene da domani inizio a lavorare su tutto questo dopo che finisco l'analisi questa sera di questa partita sul campo è chiaro che questo campo non è un campo per giocare a calcio non è non so come si è fatto non so che è successo ma non si può giocare a calcio qui l'erba è praticamente inesistente non prende e mola non come si dice non arrella non attacca e si apre è un carico in più per il calciatore soprattutto per i nostri che la condizione fisica la stanno riprendendo questo è sempre un carico in più io questo campo non sta per me dire ma non è apto per giocare a calcio non è apto e abbiamo anche rischi più grandi che le infortuni che abbiamo avuto perché è un campo tipico per farti un cruciato ma non mi pertocca a me dire questo già che ci sono se può dirci qualcosa su chi si è fatto male sì Germano sembra che ha avuto un po' un affaticamento lui si ha conosciuto bene ha fatto un affaticamento sul quadriceps destro e penso che che lui con un po' di trattamento può essere a disposizione soffrare lo devo rivedere ma penso che lui ha fatto dei lavori ha fatto un estrapo alla fine può essere che sia un tema muscolare penso che quella gamba si è allargato troppo penso che il piede che aveva in terra non l'ha preso bene il contatto ha allargato troppo la gamba e questa è un'altra situazione che non può succedere allora andiamo a vedere anche la classifica purtroppo impietosa Triestina ultima quota 6 punti a 7 c'è la clodiense poi per goletese a 12 Arsignano a 13 Caldiero Terme a 14 Triestina che peraltro sarà il 17 a giocarsi la Salò contro la Feralpi alle 17.30 peraltro in diretta su Tele4 faremo chiaramente la debita promozione la prossima settimana la partita si potrà vedere su Tele4 in TV c'è da dire che questa sera sempre sul fronte sportivo ma spostandosi sul basket la pallacanestro Trieste avrà questo scontro al vertice a Trento Trieste che vuole sgambettare tra virgolette la capolistia Cristian giochiamo contro la migliore difesa del campionato transizione gran ritmo e dominio sotto le planche le armi in più della Dolomiti stasera dunque a Trento alle ore 20 sul parchè del Palabigi scusate sul parchè del Palabigi non c'entra niente a Trento 20.30 la partita appunto contro la formazione di casa ora chiudiamo questa parte di trasmissione andando a rivedere quello che è successo anche a Rossetti con la prima De Les Les Miserables il musical per la prima volta in Italia poi torniamo con il primo ospite Andrea Mariucci assessore del bilancio di Mugia che ha importanti novità con uno sportello dedicato dalla cittadinaria riverasca ai cittadini a tra poco applausi senza fine per il debutto nazionale del musical Les Miserables a Rossetti di Trieste le voci imponenti e multisfaccettate del cast hanno impressionato una platea non solo locale ma è caso di dire internazionale tra i presenti anche il rocker Piero Pelou una successione di canzoni coinvolgenti che hanno trascinato nell'atmosfera magica anche in meno avvezzi al genere parlava in francese per una sera anche il politeama colorandosi per l'occasione di bianco rosso e blu dalle luci sulla facciata principale alla scalinata di via Streller addobbata con rose rosse e un velo da sposa non solo un omaggio ma il dress code della serata trasferito sugli abiti dei tanti che hanno assistito alla prima una grande attesa per questa prima italiana Les Miserables sì prima italiana un musical nato nel 1980 poi ha debuttato nel 1985 a Londra quindi 40 anni di attesa per averlo in Italia e ci è riuscito il Rossetti abbiamo dimostrato in poco più di un anno di poter fare due prime di due spettacoli che non erano mai venuti in Italia due prime consecutive a Trieste uno spettacolo che è pensato per le grandi arene è stato adeguato da un punto di vista della scenografia per la cornice più intima del Rossetti grazie all'impegno di professionisti come l'ingegnere Andrea Bassi sì anche se questo è uno spettacolo dovrebbe essere un concerto in realtà è uno spettacolo molto importante con una importante scenografia con un fracco di persone sul palco cantanti musicisti e anche gli aspetti scenotecnici sono importanti con dei carichi molto importanti quindi in uno spettacolo di questo tipo c'è anche un po' di ingegneria insomma dentro mentre l'assessore ai teatri e vice sindaco di Trieste Serena Tonelle ha appoggiato sin dall'inizio l'idea di portare allo stabile un altro evento di livello mondiale dopo il fantasma dell'opera l'anno scorso beh direi che è una conferma dell'importanza che Trieste sta acquisendo a livello internazionale riuscire a catalizzare spettacoli di questa portata è sicuramente motivo d'orgoglio non solo per il teatro ma per tutta la città e se pensiamo anche alla platea che c'è oggi e che ci sarà nei prossimi giorni fatta di un pubblico internazionale di tante persone che arrivano anche da lontano per vedere un cast stellare bene chiudiamo questa prima parte pubblicità e torniamo ben trovati ben trovati diretta Sveglia Trieste con noi Andrea Mariucci assessore al bilancio del comune di Mugia buongiorno e ben trovati innanzitutto buongiorno buongiorno a voi allora siamo qui questa mattina tra l'altro con una novità mi diceva l'assessore Mariucci che viene presentato in anteprima proprio qui a Sveglia Trieste questo nuovo sportello telematico polifunzionale del comune di Mugia certamente si chiama sportello telematico polifunzionale all'anagrafe la battuta è questa io lo definisco sportello digitale uno sportello interattivo che verrà presentato mercoledì 13 novembre alle ore 17 verso la sala Milo quindi a Mugia lo presenteremo pubblicamente alla cittadinanza che cos'è questo sportello questo sportello lo vediamo anche nella grafica non è nient'altro che uno strumento che in più che avrà il cittadino per 7 giorni su 7 24 ore su 24 per produrre le proprie istanze inoltrare le proprie domande e insomma fare tutto ciò che è fa parte del dialogo con la pubblica amministrazione comodamente da casa quindi senza doversi recare fisicamente negli uffici e questo è un modo di portare dico io gli uffici presso la casa del cittadino quindi dare un servizio ancora più canalizzato per quel tipo di utenze che comunque già sono avezzi con il digitale e che quindi hanno questo tipo di cultura tra virgolette sarà molto semplice perché cosa bisognerà fare bisognerà entrare nel sito del comune selezionare la pratica ecco proprio lì dove c'è scritto sportello telematico polifunzionale cliccare lì e avremo tantissime istanze tantissime macro aree sulle quali andare a cliccare per selezionarle e poi trovare all'interno il tipo di pratica che si richiede per esempio si cominciamo già io voglio fare voglio partecipare a un concorso del comune quindi possiamo andare a occupazione concorsi assunzioni benissimo clicco lì chiedere certificato modo di servizio partecipare a un concorso pubblico vediamo la prima fila a metà eccolo lì cosa faccio io scendo lì ho tutta la documentazione io vengo accompagnato passo passo dal sito a compilare questa mia domanda se andiamo esattamente se andiamo sulla fattispecie vediamo su approfondimenti ulteriori informazioni vediamo che là già ci dice subito cliccando sul ecco perfetto già là ci dice subito di che cosa si tratta di che cosa abbiamo bisogno e e tutta la normativa di riferimento poi entrando nel merito scendendo giù ecco partecipazione a un concorso pubblico vai al servizio scendendo giù vediamo che lui ci chiede un ingresso in fondo dove c'è scritto ecco inoltre la domanda c'è il servizio ecco lì ci si autentica con lo speed con il CIE carta di identità elettronica piuttosto che con la carta nazionale dei servizi i tre i tre sistemi di autenticazione che abbiamo per certificare la propria la propria identità e da lì partiamo e creiamo il nostro documento semplicissimo veramente adesso non possiamo entrare con uno speed ovviamente per ragioni di tutela di dati personali eccetera perché già nel momento in cui entriamo con lo speed si apre un foglio che poi è la domanda stessa con l'intestazione del comune di Muggia precompilato con i miei dati se fossi entrato io con il mio speed con i miei dati anagrafici eccetera il sistema fa in modo che accompagna ad ogni diciamo maschera di input ad ogni campo che deve essere compilato accompagna passo a passo la persona sia nella correttezza della compilazione che nella completezza ecco qua per esempio servizi scolastici per l'infanzia andare a scuola con lo scuolabus prima voce e ti dà le indicazioni e quanto altro ti dà le indicazioni poi è vero che è vero che alcune istanze rimandano su siti istituzionali dove già questo strumento è presente per esempio però per tanti altri servizi questo ancora non c'era per esempio ecco andiamo al servizio di polizia locale vediamo ecco polizia locale perfetto io ho avuto un sinistro e voglio chiedere il il verbale dei vigili per usi per usi possiamo dire assicurativi eccetera questo esattamente esattamente anche lì entro dentro quindi non mi recopio al comune entro dentro faccio tutte le istanze che devo fare e inoltre la domanda perfetto poi ogni cittadino quindi avrà bisogno avrà una sua se torniamo ecco nella schermata principale cliccando di nuovo sullo sportello ok qua c'è di servizio come prima torniamo invece alla schermata principale esatto vediamo in basso se ecco zero pratiche presentate quello lì che cos'è non è altro che la esatto la 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 cittadino cittadino con le pratiche presentate le pratiche inoltrate e lo stato dell'arte di queste pratiche banalmente voglio comunicare con l'associazione scusatemi voglio comunicare con perché vedevo associazione con l'amministrazione nella seconda fila a sinistra comunico con l'amministrazione io lì posso inviare non so una una segnalazione un complimento magari ecco piuttosto che un reclamo o qualcosa di più dovrebbe essere ecco presentare una segnalazione un reclamo un suggerimento oppure ancorché un apprezzamento speriamo che siano maggiori gli apprezzamenti magari una segnalazione su qualcosa su cui si richiama l'attenzione del del comune e si può andare al servizio appunto qui direttamente con accedendo al servizio come prima entrando con speed con le altre modalità diciamo certamente è interessante su alcuni servizi già anche sul reclamo se eravamo sul reclamo lì su alcuni servizi c'è già la fattispecie domanda scusa prima ancora segnalazione reclamo suggerimento apprezzamento esatto andando lì su approfondimenti dovrebbe essere moduli da compilare come fare moduli da compilare sotto ecco anche se non siamo entrati lui mi dice i documenti di cui abbiamo bisogno carta di identità sicuramente ecco e poi l'altro documento scusatemi documentazione fotografica benissimo nel caso questo ci sia e se andiamo lì sul modulo da compilare vediamo proprio nella fattispecie esattamente il pdf se lo ingrandiamo vediamo appunto tutti i campi da compilare qui è statico nel senso che ci presenta quello che è il modulo però se noi fossimo entrati con lo speed piuttosto che con gli altri due sistemi di identificazione lo avremmo già precompilato vedremo quei campi attivi per la compilazione e in più vedremo anche una bella freccetta vicino ad ogni campo che ci dice che cosa scrivere e ci avverte eventualmente di eventuali campi che mancano fatto il tutto si preme clic si invia arriva un messaggio che dice che l'amministrazione ha ricevuto il documento con tanto di numero di protocollo ed è come se io mi fossi recato in comune e ho avuto il timbro di ricevuta da parte del dipendente certo quindi insomma comodamente da casa una situazione molto interessante che permette di fare tutta una serie di cose direttamente online prima per esempio vedevo la richiesta per il cambio di domicilio residenza esattamente ciò che non rimanda sul sito ministeriale dello scarico dei documenti è riportato qui e sul comune cambio di residenza per esempio ecco una cosa una precisazione per quanto riguarda la carta di identità che sarà sicuramente una delle istanze più usate in questo momento stiamo aggiornando se vediamo adesso ovviamente lo sportello digitale lo variamo dico io mettiamo i fari in acqua poi man mano che l'utenza lo usa si va in progress ad ottimizzarlo per quanto riguarda la carta di identità con la prossima settimana sicuramente perché so che gli uffici stanno lavorandoci già adesso avremo la possibilità di finalmente di poter prenotare l'appuntamento per il nuovo della carta di identità direttamente dal sito del comune lo stesso sportello digitale rimanderà infatti alla pagina ufficiale cioè la pagina del comune siamo sempre sulla pagina del comune ma a quel campo lì della pagina del comune dove il cittadino si potrà in un calendario elettronico si potrà iscrivere al giorno e allora che più preferisce esattamente molto interessante perché sono un servizio tra i più richiesti ovviamente poi qua per esempio non so c'è anche la sezione tributi che insomma di solito insomma facciamo una battuta di molto esattamente di molto sensibile molto usato sensibile e chiedere l'imborso per il versamento di un tributo per esempio o se no il campo sotto chiedere la rateizzazione del pagamento di un tributo ecco sono tutte situazioni molto interessanti abbiamo la situazione normativa poi le varie fattispeci eccoci qui sempre con la stessa procedura se vado a moduli da compilare documenti da allegare abbiamo sempre la nostra leggenda con i tre fermaglietti si allegheranno anche dei documenti poi c'è c'è il modulino ed è interessante poi anche per tutti gli altri tributi altre altre situazioni che abbiamo certo poi ci torniamo ulteriormente ma insomma è un servizio che permette al cittadino da casa di risolvere tante cose senza doversi spostare voglio iscrivere il cane all'anagrafe canina si fa anche questo per esempio tutela degli animali perfetto segnalare maltrattamenti per esempio io voglio fare una segnalazione oggettiva di un presunto maltrattamento piuttosto che questo registra l'anagrafe canina le varie diciamo possibilità le varie situazioni e quindi poi poter andare al servizio e effettuare effettivamente la registrazione quindi servizi a 360 gradi mi viene mi viene da dire questo come primo passaggio perché questo è il primissimo step di di tante altre situazioni che che ci saranno poi e se vogliamo questo è il primo la prima cosa che si vede all'esterno dopo dopo anni di lavoro che abbiamo fatto con con gli uffici gli uffici stanno comunque lavorando perché stiamo diciamo digitalizzando tutte le procedure interne all'ente è una struttura che ha bisogno sempre di stare al passo con i tempi i tempi corrono velocemente e noi stiamo adesso lavorando sulla digitalizzazione del protocollo ora senza entrare in in concetti oppure oppure in nomi insomma che a quest'ora potrebbero risultare indigesti della colazione dei nostri telespettatori diciamo che quella domanda che con lo sportello digitale si manda piuttosto che tutte le altre domande che domani si manderanno anche in presenza diventerà in formato non solo cartaceo diciamo ma rimarrà ferma lì ma per circolare in tutti gli uffici dell'ente avrà un formato elettronico ecco in modo tale che se c'è una domanda che si interfaccia con due tre quattro uffici diversi quattro funzioni diverse col comune ecco che questa può essere condivisa già elettronicamente e gli uffici ci possono lavorare sopra diciamo allo stesso momento ecco certo allora abbiamo una telefonata da casa speriamo in tema pronto buongiorno sì pronto buongiorno ovviamente a lei e al suo ospite sono Fulvio buongiorno ha qualcosa da chiedere su Mugia? volevo chiedere anche su Mugia dottor Fabile certo allora prima di tutto perché non so se a Trieste già se questo è un'alternativa alla presenza fisica negli uffici del comune quindi affianca la presenza fisica oppure se sarà niente presenza fisica solamente in modo telematico questa è la prima cosa la seconda ero l'altro giorno a Mugia e si continua a dover digitare la targa per il parcheggio pubblico sarebbe perché lasciamo perdere l'app io posso avere l'app come non posso averlo ma perché se io metto due ore dentro devo digitare la targa e se magari perdo mezz'ora o 45 minuti e non posso cedere il mio biglietto a un altro per me questa è una formata è un affitto di uno stallo in strada non è un appartamento non è un box non è e allora cosa serve sapere chi è nell'ostale in quel momento che ci sia la macchina pinco ci sia la macchina palino non è la macchina che può essere un pericolo per qualcuno perché devo digitare la targa come anche a trieste per me questa è una formata per incassare più soldi nient'altro a spese del cittadino grazie e una buona giornata grazie grazie prego prego assessore grazie al signor Fulvio che con questa con la prima domanda che ha fatto appunto mi ricorda una cosa che volevo dire che non ho detto siamo entrati subito nel media stress della schermata questo non sostituisce i servizi in presenza del comune di Muggia anzi li affianca e se vogliamo li ottimizza mi spiego il medesimo servizio viene canalizzato su due linee la linea digitale e la linea in presenza è ovvio che ne avrà beneficio anche la linea in presenza la persona che si reca fisicamente agli sportelli del comune come continuerà ad essere perché il digitale porta via un po' di utenza porterà via sempre più utenza che ricorrerà al digitale e quindi libererà più spazio non ci saranno code agli uffici anche se a Muggia per la velocità di tutti gli uffici le code sono una cosa che non conosciamo però questo ottimizza l'offerta complessiva dei servizi comunali sul territorio allora chiedo scusa e poi la seconda cosa perché digitare la targa certo potrebbe sembrare una furbata perché una volta mi ricordo che se a me avanzava un'ora alla signora che arrivava dopo di me a Muggia come a Trieste come da altre parti dicevo guardi signora ancora 10 minuti di parcheggio se a piacere gli lascio grazie eccetera ecco questo credo sia la sintesi poi della cosa che chiede il telespettatore non è il primo tra l'altro così su Muggia come anche su Trieste credo dipenda dal gestore ma ecco possiamo approfondire la situazione certo allora arriva una mail che non so se subentra nell'ambito della privacy ma la leggo poi vediamo si potrebbe sapere se ha vinto un uomo o una donna nel concorso indetto dal comune di Muggia per un posto d'autista di scuola Bus non la so lo sapremo ufficialmente che sia un uomo o una donna io sono dell'avviso cambia poco l'importante che sia una persona che abbia piacere sarà sicuramente una persona competente spieghiamo perché c'era un concorso esattamente c'era un concorso appunto per autista di autobus di scuola Bus scusatemi ecco il fatto che sia un uomo o una donna non so sì ma c'era un posto certamente certamente ci sono dei tempi per la comunicazione sì dovrebbe essere già stato adesso ecco approfondirò anche su questo comunque che sia un uomo o una donna non non insomma cambia poco l'importante che ci sia un servizio sul territorio come il precedente autista riusciva a garantire so che stiamo facendo molti concorsi a Mugia in questo momento e quindi questo è uno dei tanti bene abbiamo un'altra telefonata la sentiamo pronto o buongiorno? buongiorno sono Luisa buongiorno buongiorno tutti i due la guardi devo dirvi una cosa che questo che dico si è per tutti si è per Mugia si è per Trieste si è per tutto ecco sono Luisa ecco buongiorno ecco a tutti i due sono molto arrabbiata perché la sanità si è anche per Mugia e per Trieste e per tutta l'Italia la guardi mi ho fatto ieri una visita perché con una strategia alla sanatorio triestino l'ascolta e che dico mi non ho reddito con 1000 Euro al mese e due iniezioni di cortisone 200 Euro loro sono proprio matti tutti i matti se può vergognare qua Trieste siamo tanti anziani mi chiede 80 anni siamo tanti anziani che abbiamo bisogno della sanità inietrata come scovazze una vergogna dove vado ciò di 200 Euro se ero giovane andavo andavo ecco volevo dire però c'è una vergogna e devo farle perché stavo male mi fa male non arrivo a camminare bene ecco 200 Euro due iniezioni ma cosa diamanti dentro brillanti una vergogna mio papà si è morto per la libertà da cao nel 44 mi avevo 3 anni mia sorella un anno mia mamma 20 anni lei era già vedova per la libertà perciò che un giorno i suoi figli stanno bene che sia trattati bene e se ne tratta per animali vergogna grazie va bene grazie buongiorno grazie per il suo intervento tema sanità se vuoi comunque rispondere alla signora è un tema complicato delicato e complicato che ovviamente c'è travalica va ben al di là dei confini comunali anche di quella che è una città come Trieste è un tema molto sentito e sicuramente è un tema su cui bisogna bisogna intervenire adesso nella fattispecie della signora Luisa credo Luisa Luisa della signora Luisa in questa fattispecie non mi permetto di entrare perché non sono né un medico né un voglio dire un un tecnico del settore per sapere se era uno degli interventi lasciata al GIA se erano degli interventi previsti da livello minimo e di assistenza eccetera ma appunto comunque è un settore su cui bisogna bisogna agire allora ci fermiamo un istante per la pubblicità torniamo tra poco ancora con Andrea Mariucci assessore del bilancio del comune di Mugia magari faremo ancora alcune prove su questo sportello telematico della comune Rivierasco tra poco sempre qui su Tele4 Cosmedia Trieste ben trovati ben trovati ben trovati ancora in diretta a Sveglia Trieste con noi Andrea Mariucci assessore del bilancio del comune di Mugia c'è una telefonata in attesa di un cittadino allora la facciamo sentire buongiorno ben trovato pronto? pronto buongiorno prego signora mi dispiace che la signora precedente quella che ha parlato prima si è espressa così perché anch'io sono anziana e pronto? sì prego prego sì buongiorno mi dispiace che la signora che ha chiamato precedentemente si è espressa così come si è espressa perché anch'io sono anziana ma non è che accuso un medico perché se mi prende 200 euro perché un medico quanto studia tutta la vita perché deve aggiornarsi continuamente e se si va da un libero professionista per cui si paga non vedo mi dispiace però perché io conosco tanti medici tutti bravi e fanno il loro lavoro e cosa cosa non so mi dispiace che abbia questo pensiero pazienza sì sono rimasta male però questa è una mia impressione la signora è libera di esprimersi come vuole e poi non è così male la sanità ad esempio io due mesi qua sono stata operata la cataratta in clinica oculistica ma guardi hanno tanto lavoro e siamo tanti ma tanti anziani io guardavo la foglia facevo parte no mamma mia ho pensato però che spese a rasugi ho pensato a questo e anche ho pensato chissà se nelle altre regioni d'Italia è così perché io vedo siamo tanti anziani no e però vede ognuno la pensa magari anche in modo sbagliato però mi dispiace ringrazio voi perché ho potuto esprimere il mio pensiero vi auguro buona giornata e buon lavoro grazie signora ma è giusto mettere in rilievo anche quando le cose grazie alla signora che ha evidenziato appunto come e il nostro io prima mi riferivo a un discorso in generale no e che il livello qualitativo dei servizi nella nostra regione è comunque alto e anche soprattutto il rispetto per per chi si occupa di sanità dai paramedici in su fino ai medici perché insomma è all'ordine del giorno delle cronache delle cronache tra aggressioni cose eccetera ecco che non viviamo lasciando perdere anche non so i controllori magari ecco che soprattutto con il personale medico ecco c'è questo c'è questo questo malcostume chiamiamolo così con un eufemismo ecco quindi grazie al commento della signora che sottolinea le cose positive allora abbiamo ancora una telefonata la sentiamo buongiorno pronto buongiorno sono in linea prego buongiorno buongiorno volevo portare un saluto a lei la redazione gentili ospite e tutti i telespettatori delle quattro io volevo imporre una ricollezione al al gentili ospite visto che è anche assessore su una certa incongruenza di Mugiano che la ritengo diciamo importante allora assistiamo a un servizio informatico me lo passo il termine d'eccellenza perché è un sportello diciamo telematico molto ben organizzato eccetera eccetera però 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 diciamo le vie di Mugia i numerici ci sono letteralmente un disastro e ho provato a parlare mi piace parlare con gli operatori del settore e per dargli un esempio su della zona di Chiampone in una determinata zona ce ne sono quattro ripeto quattro come si dice ad esempio numeri 30 di cui due dico per un esempio due sono percepibili con i sistemi moderni satellitari due totalmente ignoti e parlando sempre con gli operatori che consegnano diciamo pacchi tipo Amazon mi hanno detto sì è un disastro credo che l'avanzamento della tecnologia comunale di Mugia dovrebbe essere sì informatico sì perché più o meno quella è la direzione però anche cercare di mettere un po' d'ordine su questo discorso qua perché ancora una cosa dopo chiudo perché messa così come attualmente dà la sensazione di essere un paese del terzo mondo se il comune interviene e ci mette un po' di odine diventerebbe diciamo un fatto curioso grazie buongiorno grazie grazie per l'intervento grazie a Cittadino per l'intervento e sottolina benissimo lo stato delle cose si parla di servizi telematici diciamo di livello eccetera stiamo appena iniziando rispetto a quanto ovviamente abbiamo trovato il lavoro è lungo ci sono tante cose da mettere a posto sia all'esterno sul territorio comunale e adesso la testimonianza importantissima testimonianza del telespettatore ne è ancora un esempio vediamo anche cedimenti situazioni su cui dobbiamo andare a effettuare anche importanti manutenzioni dall'altra parte c'è anche l'aspetto interno dell'ente di cui mi occupo io in cui sono arrivato una volta in anagrafe in anagrafe non c'era quando il premier di questo paese esortava a non usare più il contante e magari proponeva di eliminare il contante per certi pagamenti in un'anagrafe di un comune di uno dei tanti comuni della nostra bella penisola italiana mancava addirittura il post quindi il cittadino doveva andare con il contante contato perché c'era anche difficoltà ne a dare i resti ovviamente dare il resto non è una cosa che è richiesta agli uffici ma al di là di questa digressione a ragione il cittadino vedremo sapevo di qualcosa su questo diciamo marasma tra virgolette dei numeri civici come succede anche in altri comuni come è successo anche in altri comuni se penso magari all'altopiano alcuni comuni all'altopiano ecco la zona di Chiampore sicuramente bisognerà mettere ordine a questo non è non è di semplice non si risolve in modo semplice perché cambiare l'indirizzo piuttosto che i numeri civi eccetera comporta tutto un riaggiornamento di documenti e situazioni per il cittadino non è semplice comunque risolveremo allora c'è anche un'altra mail che ci chiede so che tempo fa si parlava di installazione delle telecamere a Mugia nelle scuole di infanzia come la situazione sì questa è una cosa che riguarda l'assessorato che fa capo direttamente al sindaco quindi il discorso è vigilanza la parte della polizia locale sinceramente se sapessi tutto sarei un tuttologo e non so quanto sarebbe interessante la cosa mi informo su questo e credo non ci siano ancora particolari significativi sviluppi ma mi informo su questo non vorrei dire una cosa che poi lo stesso primo cittadino andrebbe a smentirmi ancora una telefonata da casa pronto o buongiorno buongiorno sono silvia ciao silvia allora ciao mi aggancio alla telefonata della signora luisa sì ma perché ha ragione nel senso che per esempio c'è una grande nebbia sulla sanità e le spiego perché la prima cosa allora la la presidente del consiglio va lì da vespa con quella ridicola calcolatrice che sinceramente è stata una scena abbastanza patetica diciamo perché è un presidente del consiglio vabbè lasciamo perdere questo sarebbe il meno tutti danno cifre anche lei dava cifre un miliardo per miliardi tutte queste robe qua però quello che mi interessa è sapere quanti soldi quanta roba hanno dato alla sanità pubblica a livello di assunzioni aumenti e compagnia bella e quanto hanno dato alla sanità privata perché loro quando parlano di sanità mettono insieme tutte e due cose ma non è la stessa cosa è una cosa molto diversa cioè darlo a un ospedale dove dove ci sono le acuzie dove ci sono dove c'è bisogno di di macchinari di personale eccetera e darlo a una clinichetta privata che poi magari si guadagna rifacendo tette e nasi scusate la parola boh questo è uno non sappiamo non c'è chiarezza e lo chiedo anche all'opposizione se mi stanno ascoltando perché anche loro devono chiarire questa cosa qua penso che abbiano i dati quindi sarebbe interessante saperlo poi un'altra cosa visto che c'è la sanità convenzionata quindi vive con i soldi pubblici ci sono visite appunto in convenzione perché non mettere online anche quelle diagnosi quelle visite quelle risposte e non ci sono cioè io vado in convenzione quindi vado come se andassi da un settore in un settore pubblico vado in privato però poi tutto quello che faccio rimane nelle mie mani e basta e devo fare le copie devo portare poi al mio medico di base che lui non può vedere invece se vado in una struttura pubblica lui dal computer vede la mia analisi e tutto ora siccome prendono soldi pubblici a questo punto che vengono messi online e che sia un vantaggio per noi e per noi assistiti che almeno abbiamo tutti i dati online la privacy vale tanto in privato quanto nel pubblico uguale credono ecco se io do il mio consenso chiaramente ho il diritto poi di avere questi dati pubblici soprattutto visibili in qualunque occasione e mi trovi in difficoltà ecco perché non farlo grazie e buongiorno grazie la signora allora vabbè esento ma riuscita a tornare sul tema sanitario di sue competenze invece volevo farvi vedere di nuovo un servizio che ugualmente riguarda Mugia perché ieri è stato presentato lo spettacolo il mio nome è di riferimento è di Walter Cosina agente della scorta morto nell'attentato di via D'Amelio e che insomma viene ricordato da quel momento a Trieste e a Mugia ma oggi con uno spettacolo si vuole diciamo far riemergere la figura di questo agente del nostro territorio perito in una strage di mafia era il 19 luglio del 1992 quando l'agente di polizia Mugia esano Eddie Walter Max Cosina trovò tragicamente la morte assieme agli altri membri della scorta del giudice Paolo Borsellino in via D'Amelio a Palermo oggi a oltre 30 anni da quel terribile giorno l'orchestra a fiati città di Mugia amici della musica PS ha scelto di onorare la sua memoria con uno spettacolo intenso che abbina musica e teatro all'Eggio intitolato Il mio nome è Eddie presentato oggi alla presenza dell'assessore regionale alla cultura Mario Anzi al sindaco di Mugia Paolo Polidori al presidente dell'orchestra a fiati città di Mugia amici della musica Andrea Spetez Ferdinando Parlato direttore musicale dello spettacolo assieme a Michela Cembram curatrice dello spettacolo il debutto è previsto per il 15 novembre alle 20.45 al teatro Verdi di Mugia un momento drammatico della storia della Repubblica da cui però si è tratta la forza per sconfiggere come mai prima la mafia e questo il merito va a persone appunto persone uomini che con le loro caratteristiche con le loro debolezze hanno sorbuto però trovare a un certo punto quella forza quel coraggio coraggio non è non avere paura è vincere la paura per superare le grandi avversità questo esempio è giusto vada ricordato e tramandato anche alle nuove generazioni con questo forte messaggio che la musica è in grado di dare che appunto il coraggio è vincere la paura e che ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna trovare la forza per superare le avversità allora un messaggio importante perché è un modo per ricordare e per far magari restare in pressa o un messaggio di un certo tipo delle nuove generazioni attraverso la musica è una bellissima iniziativa esatto invito tutti venerdì 15 novembre alle 20.45 al Teatro Verdi di Muggia ad assistere a questo spettacolo che sarà meraviglioso anche perché parlerà dell'uomo eddi non solo dell'eroe eddi perché poi ricordiamoci che gli eroi sono prima uomini quindi abbiamo questo racconto dell'eddi uomo forse anche un po' inedito se vogliamo un'iniziativa veramente molto molto importante allora tra l'altro tra poco vedremo anche cercheremo di vedere alcune immagini della prima del Teatro Verdi con la traviata di ieri sera che è stato un grandissimo successo dopo la serata precedente a Rossetti dove è stato proposto il musical Les Miserables quindi due prime una dopo l'altra di grande successo ma approfitto anche della conoscenza dell'esperienza in materia e anche dell'animo da tifoso di Andrea Mariucci per parlare un attimo della Triestina che vive un momento quanto mai complicato ieri questa espulsione e questa sconfitta con la Gianna Arminio che insomma veramente non ci voleva allora se devo fare una battuta venendo qui per chiedere ai Mugesani insomma di vederci di venire mercoledì 13 novembre alle ore 17 in Sala Mildo per toccare con mano la presentazione dello sportello digitale l'altro appello che mi sento di fare è quello di dire stringiamoci tutti attorno alla squadra perché insomma la prestazione di ieri è una in più l'ennesima prestazione tra virgolette che definire opaca sarebbe sarebbe già così generoso se possiamo però da cui io vedo delle cose positive perché l'atteggiamento se vogliamo anche un po' ruvido del mister di Clotet che sta facendo il giro dei social eccetera è stato io lo vedo come un buon segnale soprattutto ho rinfrancato poi dalla conferenza stampa del mister il mister ha fatto capire signori per salvarci per andare oltre l'ostacolo oggi serve questo tipo di determinazione e serve il gruppo il mister sta dicendo questo serve il gruppo quindi o dentro o fuori decidete dove stare ecco credo che da questo bisogna partire da questa mentalità del mister da questo carattere arcigno perché ci vuole carattere bisogna formare un gruppo che vada anche la cui forza vada anche al di là di quello che può essere il livello tecnico dei giocatori su cui non mi pronuncio ma la cosa importante per diciamo per superare questo momento estremamente negativo è proprio questa la forza del gruppo allora volevo far sentire ai nostri telespettatori qualche passaggio della prima del Verdi con la traviata con le immagini che ci sono state mandate direttamente dalla produzione del Teatro Verdi sentiamo vediamo se riusciamo a sentire un passaggio poi torniamo per parlare ancora dello sportello del cittadino dai a sentire un passaggio che è stato Grazie a tutti. 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 Devo solo far presente questo a chi ti ascolta perché è una ricorrenza molto triste quella di oggi. A parte il fatto che mi fa un ricordo felice perché oggi è il compleanno di mia nuora alla quale faccio tanti auguri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. è stata veramente una situazione è stata una situazione è stata una situazione è stata una situazione molto cruda perché è stata una situazione molto cruda perché lì al di là di quelle che possono essere le situazioni politiche internazionali eccetera, il governo di un paese è stata proprio una caccia, passatemi il termine, una caccia all'ebreo. Un termine che rimanda che rimanda ad anni bui, ad anni bui, ad anni in cui l'umanità era veramente nell'ombre più totale. Spero veramente che il mondo vada in direzioni diverse. Certo. Allora ricordando che abbiamo appena sentito un pezzo, un passo dell'opera traeviata con la soprano Maria Grazia Schiavo e il tenore Antonio Poli, torniamo a quella che è stata un po' l'anteprima di questa giornata con lo sportello telematico polifunzionale del comune di Mugia che mercoledì verrà presentato, che permetterà ai servizi e ai cittadini di accedere a tutta una serie di servizi, tra l'altro collegati vedo anche con l'aspetto social, con un'area personale di cui abbiamo parlato anche in precedenza dove rimangono i record diciamo così di tutte le precedenti operazioni. Aggiungiamo ancora qualcosa Assessore? Aggiungiamo una nota, dal primo gennaio di quest'anno fino ad adesso, dati di ottobre, abbiamo fatto qualcosa come più di 1200 CIE, carte di identità elettroniche, quindi con un enorme lavoro da parte degli uffici che ringrazio, lavoro che aumenterà perché dovremmo stanziare a bilancio ulteriori poste di spesa, non ci fa che piacere una notizia del genere perché? Perché significa che il cittadino è sensibile a questo tipo di rapporto con il comune, la carta di identità elettronica è lo strumento che ti permette appunto non solo qui ma penso alla sanità, penso a Sesamo, penso a tanti altri servizi di interagire appunto con il comune e lo sarà sempre di più. Certo, certo, questo è un servizio chiaramente fondamentale, poi vedete insomma quanti sono i servizi che vengono rappresentati. Protezione civile, volontariato, mondo associativo piuttosto che… Anche questo è un aspetto interessante, per esempio iscriversi al gruppo comunale dei volontari. Esattamente, esattamente, o ci si può iscrivere oltre a questo dei volontari, certamente entrano dentro per esempio all'albo degli scrutatori, i famosi scrutatori che durante il periodo elettorale fanno questo servizio, segnalare una carcassa di un animale, per esempio, quando il classico cittadino che ora va sui social, giustamente è anche piacevole andare sui social e fa le segnalazioni, ecco che qui le può fare in modo anche più istituzionale, se vogliamo, con un canale ben preciso. Per quanto riguarda le associazioni, per esempio, un'associazione vuole iscriversi o rinnovare l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni, qui lo può fare, piuttosto che mi vengono in mente mille e mille altre funzionalità che ci sono. Quindi vi invito tutti, perché qui sarebbe riduttivo elencarle tutte e andremo a Macchi dell'Oppardo, vi invito tutti mercoledì in Sala Millo, in presenza alle ore 17, quindi alle 5 del pomeriggio, a vedere con mano, a poter anche fare domande agli operatori che ci saranno, ci sarò io, ci saranno sicuramente gli uffici del Comune, ci sarà credo sicuramente anche il Sindaco, ma soprattutto ci sarà il partner, il partner istituzionale di questo servizio, che è Maggioli, saranno sia in presenza con noi, due operatori, che collegati anche in streaming, quindi sulle pagine Facebook dell'accesso digitale a questi servizi. Quindi sarà un qualcosa che rimane e rimarrà anche come tutorial per il cittadino, che noi allegheremo sicuramente nella pagina del Comune. Grazie, davvero grazie Andrea Mariucci, Assessore del Bilancio del Comune Minugia per essere stato con noi, per averci anticipato questo servizio di cui parleremo diffusamente anche nei nostri telegiornali. Ci rivediamo tra poco con Ives Cusutta, Presidente della circonda circoscrizione e rappresentante del Partito Democratico. Tra poco. Buongiorno. Allora, siamo in compagnia di Ives Cusutta, Presidente della seconda circoscrizione, quindi altipiano Est, rappresentante del Partito Democratico. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, siccome fine anno poi si arriva anche alla redazione, diciamo così, di quella che è la situazione e le richieste anche a bilancio del Comune di Trieste, gli chiedo quelle che magari sono le maggiori urgenze delle zone, in particolare, mi viene a dire, Opicine, Basovizza, prima di iniziare parlavamo di questione strade, quali sono, diciamo così, le urgenze maggiori sul territorio? Sì, allora, la circoscrizione, diciamo, ha un appuntamento annuale abbastanza importante, che è quello della predisposizione del Piano delle Opere. È un documento che è stato approvato dalla nostra circoscrizione ancora a luglio, all'unanimità, e che contiene appunto tutta una serie di proposte, ovvero di, insomma, di urgenze che riguardano appunto il territorio sugli settori più svariati, scuole, strade, chiese, aree verdi, e che è il nostro contributo per il bilancio comunale, per il piano unico delle opere. Diciamo che siamo molto impegnati, questo anche su sollecitazione di molti cittadini, sul versante strade, manutenzione marciapiedi, viabilità, faccio solo un esempio, appunto, Basovizza è un territorio che da anni attende, diciamo, soluzioni, soprattutto per quanto riguarda il traffico pesante che passa attraverso il paese, ma anche problemi di sicurezza, proprio mancanza di marciapiedi e di aree, diciamo, attraversamenti pedonali e soprattutto misure che possano in qualche modo limitare la velocità, perché purtroppo attraverso i nostri borghi carsici, dove le strade sono strette, dove non c'è appunto grande possibilità di ampliare le strade, l'unica soluzione è quella di poter in qualche modo limitare la velocità. La strada di Gropada, quella che collega Padriciano con Gropada, che è una strada che ha avuto dei cedimenti importanti ed è da dieci anni ormai che attendiamo di risolvere il problema, forse con l'intervento che è di competenza dell'EDR, in questo caso dell'ente di decentramento regionale, forse troverà una soluzione nei prossimi mesi, visto che anche la nostra circoscrizione si è molto adoperata per poter risolvere definitivamente questo problema. Citerei ancora la richiesta, ormai da molti anni che viene avanzata anche dalle circoscrizioni precedenti alla nostra, di ampliare l'offerta degli asili nido, in particolare dell'istituzione di un asilo nido in lingua slovena, che sul Carso non esiste e quindi diciamo che è una struttura ovviamente pubblica di asilo nido. Questa è una rivendicazione che è appunto già evidenziata dai nostri predecessori che noi abbiamo ripreso con forza, anche perché speravamo che nell'ambito del PNRR che ha messo a disposizione importanti cifre proprio per il settore della formazione delle scuole e degli istituti scolastici e speravamo che potesse essere l'occasione per dare avvio anche a questa richiesta. Ricordo che abbiamo fatto una raccolta di firme, che ha raccolto 700 firme sul nostro territorio a favore di questa proposta, però al momento non abbiamo dei riscontri concreti. Ultimo punto che citerei, tra quelli più discussi anche a livello di circoscrizione, la sistemazione del Parco della Pace, al poligono di Opicina. Oggi leggiamo sul giornale che verrà fatto l'ampliamento della struttura accanto alla FOIBA, che è una struttura che viene incontro a quelle che sono le esigenze anche di studenti, di scolaresche, che però è in qualche modo legata anche al poligono, al Parco della Pace di Opicina, perché quella zona del poligono che sta attendendo una sistemazione decorosa da 80 anni ormai, era in qualche modo collegata anche con il discorso della FOIBA, perché i due monumenti in qualche modo negli accordi del 2013 erano stati in qualche modo collegati. Quindi anche lì, il 15 dicembre ci sarà l'annuale ricorrenza, che è molto sentita peraltro dagli abitanti del Carso, il 15 dicembre che è l'anniversario della fucilazione dei cinque condannati a morte dal secondo tribunale speciale e ci ritroveremo purtroppo di nuovo in quella sede dove non c'è alcuna decorosa sistemazione di un monumento che anche dal suo stesso nome, Parco della Pace, dovrebbe cercare di dare una giusta dignità. Oggi leggiamo del poligono di tiro per altri motivi, per l'incremento delle sessioni per gli agenti armati, ma insomma anche questo è qualcosa di importante, e quindi vi sarà una richiesta specifica di sistemare definitivamente la situazione. Sì, è una richiesta che avvenziamo già da molti anni e ci sono state degli impegni anche precisi da parte del Comune, noi contiamo, non abbiamo ancora rinunciato a pensare che possa essere un obiettivo anche del Comune questo. Le chiedo un'altra cosa, Siete al vaglio di questo regolamento delle circoscrizioni, riusciamo a spiegare al cittadino come questo può incidere nel futuro di questo ente sul territorio che è molto vicino al cittadino, ma che spesso magari non viene capito, non ci si rivolge alla circoscrizione, insomma come può aiutare a essere più utili alle circoscrizioni in questo nuovo regolamento? La ringrazio della domanda perché appunto questo lavoro sul regolamento è un lavoro che ci sta impegnando molto. In campagna elettorale, prima del novembre del 21, più o meno tutte le forze politiche si erano dette a livello di programmi favorevoli a, come dire, a una rivisitazione di questo regolamento per dare più competenze, per dare più poteri alle circoscrizioni, perché oggi la circoscrizione effettivamente è un prolungamento del Comune, ma è uno strumento molto importante proprio per monitorare il territorio, per raccoglierne le esigenze diciamo più dirette. Quindi a nostro avviso, ma avviso direi della maggior parte dei consigli circoscrizionari che si sono anche espressi finora, ci aspettavamo una rivalutazione di questi organismi. Faccio un banalissimo esempio così per capire il problema. Noi come circoscrizione abbiamo avuto il piacere, come altri enti, di ospitare il campione parolimpico che ha vinto a Parigi, Parenza, Matteo Parenza. In quell'occasione l'abbiamo invitato in circoscrizione, devo dire che lui ha accolto con molto piacere il nostro invito e come circoscrizione ci siamo posti il problema, beh, gli daremo un riconoscimento, una targa, un mazzo di fiori, qualcosa. Come consiglieri circoscrizionali abbiamo dovuto autotassarci perché non è assolutamente previsto che la circoscrizione possa, diciamo nei limiti ovviamente di un bilancio, qui non si chiedono cifre impossibili, ma insomma almeno avere un budget a disposizione per poter appunto far fronte a questo tipo di occasioni. È chiaro che se le circoscrizioni non hanno una propria autonomia, diciamo, di budget e non possono programmare delle attività in maniera che possono essere prese in considerazione poi dall'amministrazione comunale, è molto difficile essere incisivi. Quindi qualche volta proprio da parte dei cittadini c'è questa osservazione, cioè a dire, sì ma la circoscrizione fa le sue rimostranze, fa le sue proposte, però purtroppo le risposte sono molto lente ad arrivare. Quindi diciamo che da questo punto di vista una maggiore autonomia delle circoscrizioni è una richiesta di tutti noi, l'attuale bozza di regolamento, pur avendo innovato alcune parti procedurali, però di fatto non dà maggiore autonomia e maggiore protagonismo a questi enti. Certo. Allora, fermiamoci per lo primo stacco pubblicitario di questa parte di trasmissione e torniamo tra poco ancora qui con Nives Cossutta. Ben trovati, ben trovati ancora con Nives Cossutta, presidente della seconda circoscrizione, rappresentante del PD. Volevo andare su alcuni temi pratici, partendo per esempio da Opicina. Ne parlavamo in pubblicità, c'è il nodo relativo ai tanti camper che sostano nell'area di parcheggio, diciamo quella di fronte al distributore della grande rotatoria all'ingresso di Opicina, che sarebbe un'area di parcheggio molto interessante anche per poi approcciarsi al centro cittadino, c'è questo problema che è di difficile risoluzione. Sì, come giustamente lei ha detto, quel parcheggio nasce come area e come parcheggio di scambio in realtà per chi arriva da Mofalcone piuttosto che dal Carso e era stato progettato all'inizio proprio per consentire di lasciare la macchina nel parcheggio e di scendere in città con i mezzi pubblici, cosa che appunto, soprattutto quando il tram funzionava e insomma il servizio degli autobus è la soluzione forse ottimale per scendere in città. Purtroppo però, sì, notiamo che la maggior parte di questi parcheggi sono stanzialmente occupati da camper e in questo senso abbiamo cercato di capire come poter risolvere il problema anche assieme appunto alla pulizia locale sia di Opicina che della sede centrale di Trieste ma non ci sono delle soluzioni immediate in quanto un camper che è regolarmente registrato che ha pagato diciamo l'assicurazione del veicolo ha diritto a parcheggiare anche se gli stessi stalli sono alle volte troppo piccoli per ospitare questi quindi sì, purtroppo abbiamo anche delle lamentele da parte di alcune persone soprattutto studenti che vanno anche all'università che vorrebbero lasciare la macchina al quadrivio ma spesso non trovano proprio disponibilità di parcheggio. Ecco, visto che siamo diciamo così in zona ovviamente tram di Opicina si attende questa soluzione finale ci sono i freni in ordinazione anche perché Opicina insomma non è una questione turistica il tram è un mezzo pubblico a tutti gli effetti per chi risiede in quella parte del carso e lo so bene perché mia mamma è nata Opicina e insomma ha fatto tutta una parte della sua vita sul tram quindi lì non c'è solo un discorso turistico che è importantissimo peraltro per il centro ma anche proprio di mezzo pubblico in sé per sé Esatto, il tram per Opicina è un patrimonio che ha un suo significato anche sociale quante famiglie, quanti tranvieri hanno lavorato diciamo per il tram è un simbolo anche direi di unione delle etnie diverse delle popolazioni di lingua diversa che abitano il carso amato da entrambi come un punto di incontro e questi otto anni che privi di tram hanno inciso sicuramente moltissimo Opicina ne ha anche risentito sicuramente anche sul piano economico ma anche su quello appunto diciamo di condivisione della popolazione di un mezzo che unisce che è un valore storico speriamo veramente che siamo arrivati alla fine di questa lunghissima vicenda e che insomma come è stato detto attendiamo veramente con impazienza la fine dell'anno per vedere che si rimetta nuovamente in moto per tutti gli abitanti del carso sicuramente il tram è il mezzo da preferire anche rispetto a progetti più innovativi come potrebbe come è quello della Binovia che invece devo dire anche la nostra circoscrizione ha spesso affrontato il problema della mobilità sostenibile e la Caminovia non viene recepita assolutamente come una soluzione che possa in qualche modo risolvere questo problema certo poi c'è la questione Caminovia ovviamente su cui la circoscrizione mi ricordo ha espresso una posizione chiara sì noi abbiamo già diciamo il consiglio precedente in occasione del piano sulla mobilità sostenibile aveva già espresso parecchie riserve sul discorso della Caminovia la nostra circoscrizione ha avuto modo di tornare più volte su questo argomento sia in relazione ai terreni che vengono coinvolti ma soprattutto ragionando su una appunto sostenibilità proprio ultimamente anche abbiamo ragionato su quanto un parcheggio di dimensioni enormi potrebbe veramente causare anche a Opicina grossissimi problemi di intrasamento anche di tipo ambientale e quindi insomma due volte sicuramente che abbiamo affrontato il problema in maniera più diretta e due volte la nostra circoscrizione a maggioranza si è detta contraria a questo progetto in quanto troppo impattante soprattutto la seconda variante quella che prevede appunto la stazione di arrivo oltre la strada accanto al parcheggio di cui parlavamo prima assolutamente inadeguata anche perché vorrebbe dire attraversare la strada a passare sopra le case di una buona parte di Campo Romano insomma da molti punti di vista e poi c'è il grosso problema della sostenibilità anche economica di questo progetto che abbiamo sollevato più volte più e più volte è arrivata anche una mail di una telespettatrice che chiede novità eventuali sul hotel Obelisco che è un'altra diciamo incompiuta storica mi viene da dire un'altra diciamo area tra l'altro abbandonata su cui Telequattro ha fatto un reportaggio anche interno con l'assessore comunale se non sbaglio all'epoca Giorgi e che rimane un posto eccezionale che ancora però non ha visto la trasformazione esatto purtroppo devo dire che ecco come circoscrizione non abbiamo grandi informazioni in merito oltre all'edificio dell'obelisco c'è stato tempo fa anche sulla stampa è emerso questo progetto che dovrebbe riguardare tutta l'area sotto l'obelisco no? per capirci della vecchia area sportiva dell'albergo con progetti di supermercati piuttosto che di altre strutture ci siamo subito mobilitati con mozioni interrogazioni per capire di cosa si trattasse ma anche negli incontri proprio con gli assessori comunali ci è stato detto che non esistono ancora progetti diciamo depositati o comunque non sono pervenuti al comune ancora dei progetti concreti su quell'area quindi anche noi siamo vigili cerchiamo di stare attenti perché quell'area verde sicuramente è un'area che non andrebbe compromessa dal nostro punto di vista sul destino di questa struttura dell'obelisco anche lì dopo vari tentativi pare che al momento siamo a un binario morto non vediamo grandi prospettive di sviluppo certo allora c'è l'altro diciamo uno degli altri centri che riguardano chiaramente l'altipiano est che è quello di Basovizza qualche tempo fa c'era stata quella cherella anche con le comunelle relative ai parcheggi nell'area di accesso al sentiero Ressel ricordati i tronchi i massi vabbè su quell'area però c'è questo progetto per una riqualificazione di quella area di sosta diciamo così di accesso un sentiero frequentantissimo dai residenti dalle persone che arrivano dal centro di Trieste ma non solo perché è l'anello di corsa insomma tra i più frequentati oltre che per le passeggiate sì su Basovizza devo dire ci sono svariate proposte appunto contenuti anche nel nostro piano delle opere oltre al problema diciamo di sicurezza che gli abitanti regolarmente ci sottopongono sottopongono la nostra stenzione soprattutto per la parte centrale del traffico dove anche il traffico pesante è molto problematico e la strada statale 14 che è quella che porta al confine che pone molti problemi di sicurezza soprattutto bambini insomma la zona delle scuole c'è stata la battaglia anche contro l'attraversamento dei cammini esattamente dei tir sì c'è il comitato che è sempre attivo devo dire che su questo a breve noi già a giugno avevamo affrontato il problema con l'assessore Babuder che è venuto in circoscrizione spero che a breve così come era stato concordato a giugno e su questo ho avuto la disponibilità anche dell'assessore ci sarà un incontro proprio a Basovizza per affrontare questi a problemi diciamo che ripeto sono tanti e coinvolgono molto la popolazione locale sul progetto di quell'area cosiddetta Termoon l'area proprio che citava lei prima anche lì c'è un progetto appunto di riqualificazione di posteggi perché lì assistiamo a posteggi assolutamente selvaggi molto dissestata molto diciamo mal 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 tenuta tutta l'area e quindi anche questo sicuramente è un obiettivo prioritario infine ricordo anche il progetto che anche dovrebbe prendere l'avvio a breve ecco se appunto vediamo nelle immagini che è veramente un po' si poi nel weekend diventa diciamo così un assalto un assalto anche per i residenti non è proprio un bevedere è veramente un intervento che sarebbe da fare e ricordo infine anche l'intervento sul quale invece il comune sta lavorando sul quale siamo stati coinvolti è stata coinvolta anche i paesani di Basovizza e quello di fronte alla chiesa perché anche lì la chiesa e il monumento insomma proprio nel centro del paese perché anche lì purtroppo il problema dei parcheggi ecco esattamente questo anche lì parcheggi un po' a caso che ostruiscono il passaggio del bus ogni tanto e quindi lì esiste però un progetto che il comune ha già provato e già finanziato da quello che ci risulta e quindi speriamo che dopo una lunga consultazione con gli abitanti insomma dovrebbe trovare anche lì una soluzione una sistemazione più adeguata allora ci fermiamo ancora un attimo per la pubblicità poi saremo ancora insieme per un quarto d'ora circa con Nive Scossuta nel finale vi proporremo la conferenza stampa di ieri sera del mister della Triestina Clotet dopo una partita dell'Unione ancora una volta abbastanza sconcertante con anche l'episodio dell'allenatore e del giocatore espulso che insomma ha fatto il giro dei notiziari anche nazionali per la reazione del mister che insomma è stata di quelle forti speriamo serva tra qualche istante ancora qui con Nive Scossuta ben trovati ben trovati ancora con Nive Scossuta presidente della seconda circoscrizione rappresentante del PD prima abbiamo parlato del auspicabile ritorno a breve del tram che si collega anche un altro tema cioè il fatto che una volta che i turisti i visitatori arrivano a Opicina insomma non hanno magari un percorso storico culturale da seguire su questo state lavorando esattamente la circoscrizione già due anni fa ormai a novembre del se ricordo bene a maggio del 2022 quindi abbastanza subito dopo l'insediamento proprio su proposta tra l'altro dei colleghi del centro-destra abbiamo approvato all'unanimità questa idea di realizzare dall'obelisco praticamente fino al centro del paese di Opicina un percorso storico-culturale con otto tappe che raccontano un po' la storia e che illustrano i punti più significativi del paese ci sembrava una cosa molto utile per i turisti che raggiungono Trieste e che raggiungono Opicina da Trieste dopo un primo inizio così molto entusiastico anche da parte dell'assessorato della cultura però le cose si sono arenate adesso stiamo aspettando già col secondo bilancio di vedere insomma realizzato tra l'altro questo progetto si inserirebbe esattamente nel progetto che già esiste a Trieste che è già funzionante con i totem informativi su tutti diciamo le curiosità e i punti di interesse di Trieste su questa linea anche se in realtà la circoscrizione aveva un'idea un po' diversa di fare una cosa un po' più diciamo carsica diciamo tra virgolette ma abbiamo comunque accolto questa proposta che insomma sembrava potesse essere quella realizzabile più velocemente io spero veramente che adesso in sede di bilancio questa proposta venga finanziata non ci vogliono grandissime cifre noi abbiamo lavorato molto sui punti di interesse sui testi quindi c'è già tutto un lavoro di preparazione coinvolgendo tra l'altro anche storici e appassionati di storia di opicina e spero che riusciamo almeno a realizzare questo progetto che mi sembra qualificante ecco anche per il allora c'è una telefonata pronto buongiorno buongiorno carissimi una domanda specifica all'ospite si è pensato di provvedere prima o dopo allo sgombero dei rifiuti della discarica di Trebiciano ricordo per chi non lo sa o non si è dimenticato che parliamo di decine di migliaia di metri cubi di immondizie che la cui presenza di un modo o nell'altro influisce direttamente sulla qualità delle acque di fondo acque classiche e ricordo anche che proprio sotto la discarica passa c'è la grotta di Trebiciano passa il timavo di cui sono state scoperte finora oltre due chilometri di gallerie e sarebbe forse una cosa interessante pensare a questa operazione sicuramente gravosa ma necessaria per parlare veramente di riconversione ecologica grazie buona giornata grazie è molto interessante il tema prego si ringrazio ringrazio l'ascoltatore per questa segnalazione devo dire che il tema delle discariche in generale perché purtroppo non solo Trebiciano ma anche Banne anche Padriciano e altre zone purtroppo ne sono ne sono colpite è un argomento sul quale abbiamo subito insomma cercato di dare la massima attenzione la circoscrizione ha presentato varie svariate emozioni sul tema io ricordo in particolare le discariche a Banne che sono state anche per un lungo periodo insomma un problema che ha assilato anche gli abitanti diciamo che una soluzione definitiva non l'abbiamo ancora intravista anche se assieme alla polizia locale assieme alla polizia ambientale quant'altri che hanno competenza in materia siamo abbastanza vigili sui problemi poi le soluzioni effettivamente in particolare anche di questa di Trebiciano che forse anche come dimensioni più più importante al momento non ne abbiamo ma sicuramente torneremo sull'argomento e cercheremo di approfondire e sollecitare delle risposte su questi argomenti su questi aspetti c'è un altro aspetto di cui parlavamo durante la pubblicità ovvero di quelle strutture abbandonate sul territorio della circoscrizione seconda quindi sull'altipiano oest dalla caserma di Banne all'area ex Enel a Opicina sulla statale al vecchio cinema di Opicina per cui è prevista insomma un tentativo di valorizzazione con la messa all'asta insomma sono davvero tante grandi e chiaramente sono potenziali opportunità con un'eventuale trasformazione sì a quelle elencate aggiungerei anche l'ex scuola elementare di Gropada che per chi la conosce è una bellissima struttura tra padriciano e Gropada anche quella di proprietà del comune abbandonata ormai chiusa perché non purtroppo il callo demografico l'inverno demografico colpisce anche la nostra la nostra città quindi sono tutte strutture in stato di abbandono alcune anche pericolanti e pericolose come per esempio la caserma di Banne sicuramente perché tra l'altro è proprio sulla strada quella principale dove passano le macchine dove passano i bambini per andare a scuola e quindi è un grosso problema insomma per chi abita lì certo sono strutture ci rendiamo conto molto che richiedono interventi estremamente ingenti perché sono anche lo stesso questo cinema ex cinema del vedere che è una struttura del demogno che adesso viene messa in vendita però si dice che lo stato di degrado è tale che non consente neanche la presenza di amianto non consente neanche un recupero facile lo vediamo anche da questo articolo il quotidiano il piccolo in particolare gli interni chiuso da 50 anni gli interni cioè soprattutto la parte del tetto qui vediamo situazione che così a naso prevede interventi molto molto onerosi però ecco diciamo che forse anche lo stesso PNRR che ha offerto dato qualche possibilità di recupero anche di queste strutture e ovviamente mettendo anche a disposizione dei fondi perché delle risorse che sono indispensabili forse si poteva fare qualcosa di più ecco e noi sicuramente la caserma di Banne è un'eredità che abbiamo preso dai precedenti consigli circoscrizionali e continueremo anche perché poi due anni fa c'è stato anche un sopralluogo della commissione proprio del consiglio comunale di Trieste dove molti consiglieri si sono sorpresi della vastità dell'area e della potenzialità che tutto quell'area potrebbe rappresentare e quindi torneremo a sollecitare a chiedere che vengano almeno progettati almeno fatti degli studi di fattibilità per capire quali sono le dimensioni e quali sono le concrete possibilità perché lasciare tutto così in abbandono è veramente una cosa che non va bene che non insomma un'amministrazione non può non considerare ecco Presidente Flash come ci si rivolge alla circoscrizione seconda? La seconda circoscrizione ha sede a Opicina di fronte al cimitero in via Prosecco 20 barra 3 io sono lì tutti i mercoledì mattina dalle 10 alle 12 proprio a disposizione della cittadinanza si può contattare la nostra circoscrizione e molti cittadini lo fanno attraverso la mail seconda circoscrizione chiocciolacomune punto trieste punto it e attraverso la nostra pagina il nostro sito web dove almeno le notizie diciamo più importanti vengono riportate allora io ringrazio molto Nive Scossutta Presidente della seconda circoscrizione rappresentata del PD per essere stata con noi vi faccio vedere la vignetta che è proprio tema sportivo del nostro Marco Inglaro questa mattina i parla che se tante strade da asfaltare in città l'unione viene asfaltata ogni domenica vabbè diciamo che non è molto divertente la situazione del calcio per fortuna c'è la palacanestro Trieste che stasera gioca a Trento noi risentiamo l'intervista a Mr. Cloutet che ieri tra l'altro dopo l'espulsione del giocatore Crollis che si è fatto espellere di fatto determinato l'esito della partita non le ha mandate a dire al giocatore ma anzi se vedete dalle immagini è finita così quindi non esattamente ha belle parole e ha anche detto Crollis nella mia squadra finché ci sono io non gioca più insomma nervi tesi sentiamo Pep Cloutet grazie oggi abbiamo visto questo per me non deve succedere nel calcio e non parlo della razione parlo dello che ha successo della spulsione Crollis lo che ha fatto questo non può succedere nel calcio lui è qui in prestito rappresenta un'altra società che lo manda qui in prestito e lui fa questo alla Triestina fa questo alla sua società e fa questo al calcio che mi ha venuto in mente la verità io ho un figlio di 8 anni che ha visto questo oggi io vengo di una cultura dove questo non può succedere un calciatore che fa questo se lo fa in strada lo mette in galera non è normale non è normale e questo noi non dobbiamo accettarlo di nessuna maniera e per col rispetto a me come allenatore Crollis ha finito la Triestina del tutto basta io che l'ho detto l'ho detto in faccia questo mesmo che ha finito oggi con la Triestina con me come allenatore che questa è una roba che devo valutare anche io la situazione come lo che mi sto trovando qui che non è normale questo ci ha sorpreso un pro la Gianna un poco perché avevano giocato 5-4-1 col Padova venivano giocando una linea di 4 è vero che hanno partito con il 5-3-2 e all'inizio si è costato un po' affiancarsi sulla partita dopo avevamo andato sui primi momenti un po' in dubbi e penso che la squadra si stava riprendendo già ha iniziato a creare pericolo e già stavamo meglio in difesa fino alla situazione dell'espulsione purtroppo la situazione dell'espulsione per noi è un momento duro perché penso che la squadra si aveva affiancato bene dentro la partita aveva preso la giusta misura dell'avversario e stavamo competendo bene dopo all'andare con uno indietro non posso dire niente dei calciatori penso che hanno dato l'anima hanno corso per riuscire a fare questo pareggio anche qualche situazione soprattutto per andare a segnare se riusciamo ad arrivare evidentemente che il dominio è stato totale per l'avversario non posso dire niente purtroppo la squadra ha raggiunto bene alla situazione dell'espulsione ma è molto difficile uscire dalla situazione dove siamo con questi tipi di errori e questi tipi di situazioni in partita noi dobbiamo avere la testa più concentrata penso che la mentalità non è giusta nel senso che noi dobbiamo capire il calcio com'è il calcio sedesimo com'è dobbiamo gestire anche i momenti della partita e questo è tutto roba individuale penso che si sta che può avere qualche calciatore che è un po' una scomesa nella Lega ma deve avere anche dobbiamo pensare che è una Lega molto difficile molto competitiva e penso che a noi ci manca il gestire bene il capire bene la partita il capire bene la situazione qualche volta andiamo a mettersi in rischio senza senza necessità ma l'impegno sia stato penso che la squadra ha lottato fino alla fine penso che abbiamo difeso molto bene tutti i cross e il gol che abbiamo preso potevamo aver fatto un po' di più ma credo che l'errore prima che andiamo a sbagliare a pensare di giocare da dietro in quella situazione e la inizia tutta la giocata un altro modo di dire che non siamo capaci di leggere la partita di avere quella esperienza nel campo per leggere la partita l'esperienza come squadra per leggere la partita e questo è molto difficile di competere in questo momento se lo sto guardando la squadra che noi siamo sopra quando io ero arrivato qui erano a tre punti sotto oggi erano a un punto se noi oggi facciamo un punto potremmo anche uscire dalla retrosezione e questo già mi semblava un bel passo avanti adesso torniamo a essere a un punto e l'altro con una partita di meno e dobbiamo mettere la concentrazione su quello solo pensare alla squadra che abbiamo avanti e non buttare via le partite così perché ogni volta è una partita di meno io ho fatto giocare Valocchia perché penso che quando lui è entrato nella partita precedente contro il Propatia lui ha giocato con molta onestità con molta umilità con molto lavoro e ha cercato sempre di aiutare la squadra e questo è pensato che è giusto premiarlo con giocare no? Ho visto atteggiamenti un po' diversi sulle altre e alla fine ho scelto quella squadra che capivano un po' di tutti dovevamo mettere la squadra prima di tutti noi ma che devo dire è sbagliato perché ho fatto giocare il Krolis come lo dovrebbe aver fatto per come è andato comunque ma penso che con Valocchia niente da dire nel momento che noi oggi buttiamo via la partita come la buttiamo e noi abbiamo quella capacità di gestirsi vuole dire che la situazione tanti non la capivano io l'ho detto dal primo giorno abbiamo troppe scomese non si conosce la Lega e si deve pensare come dobbiamo andare avanti dopo un dato importante prendiamo gol e gli ultimi minuti perché questa squadra ancora non è al livello fisico che deve essere una squadra in questo momento e tutto questo se non abbiamo quell'esperienza di sapere gestire tutte queste situazioni fanno fanno molto mettono una difficoltà in più per tutti noi può essere può essere due opzioni ancora non ho pensato bene da domani inizio a lavorare su tutto questo dopo che finisco l'analisi questa sera di questa partita sul campo è chiaro che questo campo non è un campo per giocare a calcio non è non so come si è fatto non so che è successo ma non si può giocare a calcio qui l'erba è praticamente inesistente lo prende e mola no come si dice no arrella si non attacca non attacca e si apre è un carico in più per il calciatore soprattutto per i nostri che la condizione fisica la stanno riprendendo questo è sempre un carico in più io questo campo non sta per me dire non è apto per giocare al calcio non è apto abbiamo anche rischi più grandi che le infortuni che abbiamo avuto perché è un campo tipico per farti un cruciato ma non mi pertocca a me dire questo già che ci sono se può dirci qualcosa su chi si è fatto male si Germano sembra che ha avuto un po' un affaticamento lui si ha conosciuto bene si ha fatto un affaticamento sul quadriceps destro e penso che lui con un po' di tratamento può essere a disposizione soffrare lo devo rivedere ma penso che lui ha fatto dei lavori ha fatto un estrapo alla fine può essere che sia un tema muscolare penso che quella gamba si è allargato troppo penso che il piede che aveva in terra non l'ha preso bene il contatto ha allargato troppo la gamba e questa è un'altra situazione che non può succedere è un'altra situazione è un'altra situazione